Buonasera, bentornati a Di Martedì, giusto qualche minuto diamo il tempo a Giovanni Flores di arrivare e poi iniziamo come sempre tanti ospiti, questa sera tra gli altri Di Battista, Bersani, Travaglio, Conte allora solo un po' di pubblicità e poi iniziamo con Di Martedì e naturalmente con Giovanni Flores a tra poco Bentornati, bentornati di Martedì, lo studio è pronto, gli ospiti in arrivo, Luca e Paolo, pochi secondi e si comincia da loro E allora cominciamo da Luca e Paolo Eccoci, mamma mia Flores, ma è di nuovo Martedì, ma sembra ieri che eravamo qui Guarda come passa veloce il tempo quando ci si diverte Guarda come sono passati veloci gli ultimi dieci anni, sembra ieri Flores, il 2012, te lo ricordi? L'Italia arrivò in finale agli europei perdendo con la Spagna E sai dove? Allo stadio di Kiev Oltretutto non so se hai notato che la nostra nazionale ha fatto la stessa fine dello stadio Qualche giorno prima in Russia andò al Cremlino per la terza volta un certo Vladimir Putin Sostituendo un signore che si chiamava Medvedev, uno con cui Salvini quattro giorni fa voleva parlare di pace Infatti Medvedev oggi ha dichiarato Odio occidentali, sono bastardi e fanatici, farò di tutto per farli sparire Come legge le persone Salvini, guarda veramente No no, c'ha proprio l'occhio Sai che un giorno Salvini a Firenze ha incontrato Pacciani e ha pensato A questo gli farei fare il guardia boschi Eh sì, sicuramente, soprattutto dieci anni fa si stava per compiere una grande rivoluzione Per la prima volta in un comune come Parma venne eletto sindaco e rappresentante di una nuova forza politica Il Movimento 5 Stelle Che colpo, Pizzarotti è stato davvero un precursore Il primo a essere eletto sindaco con i 5 Stelle E il primo a mandarli a fare in culo Tutti i grillini si domandavano ma se i grillini in poco tempo hanno preso Parma Da qui a dieci anni, cosa saranno in grado di fare? Cosa sono stati in grado di fare i grillini in questi dieci anni? Aiutami a dirlo Un cazzo e una ciabatta Però aspetta perché è facile sparare sui grillini I propositi erano ottimi Diciamolo chiaro, i grillini hanno fatto tutte le domande giuste E sono riusciti a dare tutte le risposte sbagliate Non contenti, non contenti Ultimamente litigano anche tra di loro Ci sono i grillini di Maiani Che dicono sia Draghi I grillini contiani Che fanno finta di dire di no a Draghi ma poi gli dicono di sì I grillini torinelliani Che non sanno chi è Draghi E gli ex grillini Che dicono di no a tutto tranne che ha lo stipendio da parlamentare E poi c'è Giuseppe Conte Poveretto che gira l'Italia Sì sì, arriva tra le... Gira l'Italia per sostenere candidati che non esistono Perché il movimento non si presenta alle elezioni Eh sì, lo stesso Giuseppe Conte che è stato eletto capo dei grillini due volte Ma forse dovrà essere eletto da terza Perché non riescono a farlo vincere contro il suo più grande avversario Conte Giuseppe Sì, dopo mille pasticci burocratici A marzo hanno dovuto rifare le elezioni Stando ben attenti a seguire tutte le regole E stavolta non potevano sbagliare Ci sono messi tutti i migliori La Taverna, Conte, Vito Crimi Un po' i ragazzi di Via Panisperna Erano sicurissimi Non potevano sbagliare E... Hanno sbagliato A tutti è sfuggito un piccolissimo dettaglio I candidati a ruolo di Presidente devono essere indicati dal garante Cioè Beppe Grillo Vabbè, è giusto, no? E ci sta, è un'auto formale Quindi ci vuole un'investitura ufficiale Beh sì, sì Grillo avrà mandato una raccomandata Un'auto notarile Una pecca Sì, ha mandato un istituzionalissimo Whatsapp Cioè? Cioè la Taverna Che è un po' la Zagrebeschi del movimento L'ha inseguito per giorni Sapeva che formalmente C'era bisogno della sua approvazione E infatti dopo mille richieste Beppe ha mandato una risposta Molto formale Sì, era indeciso tra il video del cane Che si spaventa allo specchio E l'antologia di Germano Mosconi Ma alla fine ha mandato un Whatsapp Con scritto Ok Molto formale Le cose si risolveranno Non è quello il problema Anche perché d'altronde Se hanno un lassero l'incarico a Giuseppe Conte Prenderebbe il suo posto il suo secondo Conte Giuseppe Sempre lui Il problema, ragazzi Sta nel fatto che tutta questa gente Vive la politica così Alla leggera Come una cosa poco seria Non solo i grillini E noi non vogliamo più dargli spazio Abbiamo bisogno di gente seria in Parlamento E per fortuna C'è Il coordinatore di Forza Italia Antonio Tagliani Lo ha annunciato in pompa magna È arrivata Michela Rostano Eccola Deputata del gruppo misto Passa in Forza Italia E lo sai perché? Lo ha detto proprio Michela Perché è una forza europeista Garantista E liberal-democratica Un centro moderato Credibile In Italia e in Europa Rostan vuole la credibilità Infatti lei è credibilissima Si è fatta eleggere anni fa Nel Partito Democratico Poi però ha avuto un dubbietto Ed è passata nelle file di articolo 1 Vabbè ma Può succedere di avere un dubbietto No? Però poi in articolo 1 Ci credeva tantissimo Per lei è importante essere credibile Quindi si è presentata nelle liste Di articolo 1 Fuochino Liberi uguali Vabbè vabbè Ci stava anche articolo 1 Ma lei cercava più credibilità E quindi Se n'è andata Ecco È passata a Italia viva Cioè da Bersani È passata a Renzi Sì tipo dalla Juve alla Fiorentina Insomma due che si vogliono bene Però lì da Renzi No no aspetta Perché lì da Renzi Lei si è sentita credibile Ma credibilissima eh E infatti È stato condolore Che dopo Un secondino Ha fatto un altro salto Da Italia viva Al gruppo misto Che è un po' Il paese dei balocchi del Parlamento Il gruppo misto Quando non ti vuole più nessuno Vai a svernare lì Sperando non ti crescano le orecchie d'asi No? Ma la settimana scorsa La folgorazione Rostan Era sulla via di Damasco Quando le è apparso Berlusconi E smascellando La chiamata a sé Siamo una forza liberista Sì Garantista Sì E si prepara la democrazia E libera la democrazia No no E si prepara la democrazia Riprova Siamo una forza Si prepara la democrazia Libera la democrazia No 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 E lei è passata a Forza Italia Un giro completato Da sinistra a destra E noi diciamo Michela Non fermarti proprio adesso Dai Un saltino nella Lega Poi fratelli d'Italia Poi fratelli d'Italia Poi tracchete Risalta di là Io però comincerai a pensare A cadere Vai Vogliamo provare che so Una democrazia proletaria Un mesetto lì E poi via nel movimento sociale E mentre la Rostan Saltella di fiore in fiore Tutti i nostri politici Che al contrario Sono persone molto serie Quando prendono una posizione Ormai Non so se l'hai notato Pensano solo a una cosa La posto Su Instagram Siamo su Facebook Perché i nostri rappresentanti Sono così occupati Nella loro carriera social Che gli sta succedendo L'incubo di ogni sedicenne Loris Stanno perdendo followers Dall'inizio del 2022 Giuseppe Conte Ha perso qualcosa Come 108.000 followers Lui che era L'avvocato del popolo È diventato L'amministratore del condominio Ma quello messo peggio Messo peggio di tutti È Salvini Salvini dal cittadio 22 Sono 285.000 I followers Che lo hanno abbandonato Decine e decine di fan Scomparsi così Da un giorno all'altro Come i giornalisti in Russia Ok vero E quindi Salvini È tornato a fare comizi in pubblico Domenica invece di andare Nella piazza rossa a Mosca È andato in piazza Malvezia Ad Esenzano Vabbè è uguale Con grande umiltà Ha tenuto a sottolineare La spontaneità del gesto Io sono l'unico segretario di partito Che anche nella domenica del ponte Sta in mezzo alla gente Che tradotto dal salviniano Significa Mi è saltato il viaggio in Russia E sono disperato Esatto Ma una volta in mezzo alla gente Ma dovevi vederlo Su uno spettacolo La piazza È il suo terreno naturale Lui in piazza si trova bene Come i piccioni Uguale Salvini ha sfoderato Il meglio del suo repertorio Battute, baci, abbracci E selfie 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 Come se non ci fosse un domani Che in effetti A guardare i sondaggi sulla Lega A quel punto Il capitano però Ne ha approfittato Per rilanciare il tanto discusso progetto Di incontrare Putin a Mosca Si e ha detto Draghi ha telefonato a Putin Scholz ha telefonato a Putin Se Salvini parla con Putin È un delinquente No Matteo Inizia per D Finisce per E Ma non è delinquente Aspetta Divertente Esatto Divertente Se si parla di risate Non possiamo Non possiamo lasciarti Senza parlare di quello che è successo Domenica sera Ma che meraviglioso Spettacolo Giletti ha condotto il suo programma Da Mosca Per raccontare la guerra in Ucraina Si è andato a Mosca Che è un po' come se per raccontare la guerra in Vietnam Uno fosse andato A Las Vegas La cosa più bella È che pure da Mosca Non ha voluto rinunciare al format dell'anno Insomma a quel momento che piace a grandi apicini Prossimo vincitore del Telegatto Il format lo conoscete tutti Si chiama Signora vestita male Che parla bene di Putin Dal salotto di casa sua E fa così E mi fa parlare Perché se no mi fa parlare Lei è come di bambino Te lo capisci Russia aggredita Ma Putin Brava persona Russia ha tanta libertà di parola Puoi dire Spettila Puoi dire quello che vuoi Poi magari tua sfortuna E il tuo puttana Trovi un po' l'occhio Ma quella è tanta sfortuna Voi dite Russia ha attaccato Ucraina Ma anche Giulio Cesare Ha attaccato i cali Piantala Stiamo lavorando Lei Giletti questo non lo dice Cioè Piance perché i russi non dicono Non stiamo facendo una cagata Dicono Voi le avete fatte prima Eh vabbè vai Ho capito Insomma Giletti è andato a Mosca È andato a Mosca A sentire le ragioni Dei russi Ed è giusto Perché è facile dire Jack lo squartatore Ma se non sai perché la squartava E mancano le sue motivazioni E aveva poi torto Eh chi lo sa Parliamone Prova a fare Qui dice Buonasera Buonasera Tutti abbiamo la cugina di Jack Eccola Collegata da casa sua Buonasera e grazie Oh hello Jack molto buono lui Poi tu dici lui ammazzava Ma pure voi italiani Mostri E ora parlate di Jack Che era una brava persona E allora Cattelina Che ammazzava Romani Sembra le stesse cose Insomma Giletti ha parecchiato Una tradizione Bellissima Molto Ma poi è arrivato lui Sallustone Mamma Floris Non hai notato anche tu Una cosa eccezionale Più il mondo va di merda Più Sallusti sembra L'unico sensato Nella stanza Guarda che Eccolo lì Guarda Grandissimo Ti vogliamo bene Guarda che È magnifico Fino a che non sono scoppiati I merdoni Sallusti sembrava Lucigno E la culona inchiavabile E le bestie islamiche Ogni settimana faceva su un casino Dal covid in poi È diventato il maestro Migliaggi Dice solo cose sensate Quasi intelligenti Domenica poi Spettacolo Cremlini è un palazzo di merda Cacciari è un utile idiota I tuoi ospiti sono dei coglioni La portavoce di Putin Una cretina totale Cioè ha fatto dei giri di parole Ma ha detto quel che pensava Sì sì Non è andato dritto Si è fatto capire Si è fatto capire Comunque dal momento Sallusti poi Ne sono successe di ogni Sembrava il tiro al giletti Tanto che sul più bello Il povero Massimo È poverino È svenuto Sì è poverino Ci siamo tutti spaventati Ma il più spaventato Era Floris Perché non so se avete notato Ma quando alla 7 qualcuno Non può fare un programma Track Ci mettono Floris Domenica Domenica mezzanotte Lo avevano già messo Su un aereo per Mosca Poi lui era lì così Poi per fortuna Massimo si è ripreso Floris lo hanno slegato E potuto ritornare a casa Comunque Complimenti a Giletti Una trasmissione così divertente Non si vedeva da un po' Peccato serve una guerra Per farci ridere così di gusto Ciao Ciao Luca Luca e Paolo Che torneranno E intanto vi ricordo Che dal 9 giugno Sono al cinema Con il giorno più bello Diamo il bentornato Il benvenuto a Marco Travaglio Buonasera Buonasera direttore del Fatto Quotidiano Chi era con noi anche a 8 e mezza Visto che abbiamo parlato di che cosa? Di questa lista Cartello 11 A questa lista Riportata dal Corriere della Sera Di persone filo russe Diciamo Filo Putin Troppo sensibili Che fanno propaganda Per la Russia Ora ti chiederò cosa ne pensi Per chi avesse mancato La puntata precedente Però ti voglio dare un elemento in più Cartello 19 Ha parlato il sottosegretario Gabrielli Che è la persona che si occupa Proprio del controllo Dei servizi E dice L'intelligence italiana Non ha mai stilato Alcuna lista Di politici Giornalisti Opinionisti O commentatori Ne ha mai svolto Attività Di dossieraggio Dacci Un tuo punto di vista Su questo Importantissimo tema Io tutto quello che so L'ho appreso dal Corriere della Sera Che scrive Influencer e opinionisti Ecco i putiniani d'Italia Il materiale raccolto dai servizi Nell'ambito di un'indagine Avviata dal Copasir Il presidente del Copasir Ha detto Di non avere ricevuto Quella lista Ma di avere ricevuto Un rapporto ieri Dai servizi Quindi dopo che il Corriere L'aveva pubblicata Quindi non può essere uscita Quella lista dal Copasir I casi sono due O l'ha inviata Qualche elemento Dei servizi Oppure se la sono inventata Dato che io non credo Che il Corriere L'abbia inventata Penso che i servizi Abbiano fatto un'attività Che magari Non era proprio una lista Ma era un'attività Di monitoraggio Di persone Che sono ritenute Ripeto Non solo filo putiniane Perché qui ci sono Dei virgolettati Sul Corriere della Sera Da questo report In cui si dice Che il loro peccato mortale È essere critici Con il governo Draghi È essere contro il governo Draghi È voler orientare Le scelte del governo Draghi Criticarle Denunciare l'invio delle armi Denunciare la scarsa efficacia Delle sanzioni Cioè tutte quelle attività Che nelle democrazie Liberali Appartengono al diritto Dovere Di critica Al diritto Dovere Di fare opposizione Quindi è molto bizzarro Poi noi Sul fatto quotidiano Domani Invito a leggere Non voglio anticipare Perché se noi Entriamo troppo nel merito Abbiamo ricostruito Esattamente Quale ambiente Dei servizi Ha partorito Questo rapporto Ci sono state Delle riunioni Con esponenti Del governo Prima che venisse Inviato Questo rapporto Ieri Al Copasir Ma è tutto sbagliato È tutto completamente Fuori legge Perché I servizi segreti Dipendono dal governo Il governo Non può Far indagare Dai servizi segreti Coloro che la pensano Diversamente dal governo Il Copasir Deve controllare I servizi segreti Per evitare Proprio questo tipo Di deviazioni E invece Non solo non li controlla Ma riceve da loro Questi dossier La stampa Che è quella Che deve controllare Tutti Non può prendere Questa roba E farci lo scoop Perché Bisognerebbe dire Guardate che scandalo Guardate che cosa Stanno facendo Il nostro governo E i nostri servizi Allora Ti porto sul Copasir Queste cose succedono In Russia Non succedono Nella democrazia Ci arriveremo Alla Diciamo Alla russificazione Allora Ti porto Vi ricordo Prima puntata Cartello 19 Gabrielli L'intelligenza italiana Non ha mai stilato Alcuna lista Attenzione Non ha mai stilato Lista Ne dossieraggio Ma Cartello 16 Il presidente Del Copasir Stamattina Al giornale Radio Rai Ha detto Il comitato parlamentare Ha attivato Un'indagine Conoscitiva Non abbiamo Sul tavolo Un elenco di nomi Ma abbiamo Delle informative Sull'attività Di questa macchina Propagandistica Cos'è Un'informativa Marco Travaglio Non hanno una lista Di nomi Hanno una lista Di cognomi Evidentemente Visto che Di questi Di questi cognomi Abbiamo saputo Tutto Abbiamo anche Le foto Beh Appunto È un'attività Completamente abusiva Che nasce Da un abuso Quando Cioè Si è deciso Non si sa bene A che titolo Che il comitato Per la sicurezza Della repubblica Che deve controllare I servizi segreti Venisse investito Del compito Assolutamente Inaudito Di scegliere Quali persone Possono parlare Nei talk show E nelle televisioni E quali no Quindi Si è istituito Una specie Di ministero Della verità Che risponde Alla maggioranza Parlamentare Quindi alla maggioranza Di governo Che ci deve dire Qual è la verità Chi la può dire Chi non la può dire Chi può parlare E chi non può parlare A prescindere Completamente Da reati Perché qui Non c'è l'ombra Di un reato Non c'è scritto Da nessuna parte Che qualcuno Ha commesso Dei reati Quindi sono accuse Per intimidire Il dissenso Per spaventare Quelli che vogliono Pensarla O dirla In dissenso Rispetto al governo Sulla guerra E su altre cose Per fargli paura Cioè Violando Un principio Sacrosanto Che è la libertà Di espressione Sancita Dall'articolo 21 Della Costituzione Per coprire La violazione Dell'articolo 11 Che vieta Di usare la guerra Per risolvere Allora qua ci torneremo Sai che il presidente La consulta Amato ha detto Che in realtà Invece Dà i limiti Entro cui si può Partecipare Ma arriveremo Al punto della guerra A breve Ma ti risponderò Molto volentieri Sì Avete anche raccolto Dei costituzionalisti Che la pensano In maniera Differente Però è vero Che se ove Ci fosse ricorsa La consulta Già sapremmo La consulta Cosa ci direbbe E allora diventerebbe Costituzionale Sapremmo Cosa ci dice Il presidente Non sapremmo Che cosa ci dicono Gli altri 14 Allora Ritorniamo Ai livelli Istituzionali Per capire Da dove esce La lista E quindi Con quali Finalità Viene Stilata Il presidente Del Copasir Come giustamente Dicevi È dell'opposizione Allora Queste liste Non sono state fatte Dai servizi Le informative In qualche modo Però sono arrivate Queste informative Diciamo E supponiamo Diciamo Supponiamo Non siamo bambini Supponiamo Che ci sia Un'informativa Su di te Su di me Su tutte le persone Che in qualche modo Fanno Ed è pure giusto Perché si tutelano Perché se scoprono Che a me O a te Ci dai soldi La CIA Magari Fanno un Un reclamo All'ordine Anche se la cosa È successa in passato E tanto Tanti problemi L'ordine non l'ha creato Però Forse non è Un dramma Che si siano Informati E che queste informazioni Siano state Compattate E consegnate Al comitato parlamentare Che come dici tu In qualche modo È in un Nello stesso clima In cui si muovono Altre commissioni parlamentari Quindi Cosa sta succedendo? Sta succedendo Che il sistema Di potere Attualmente Al governo Non riesce A convincere La maggioranza Degli italiani Della bontà Delle sue scelte Gli italiani Lo dicono Tutti i sondaggi Non vogliono L'escalation Non vogliono Continuare a mandare Armi Magari all'inizio Potevano anche Pensare Che fosse Una buona idea Adesso si sono Resi conto Che su queste armi Ci hanno raccontato Un sacco di balle E non stanno Servendo Per ribaltare Gli esiti Della guerra Ma soltanto Per incrudelirla E per allungarla Nel frattempo L'economia mondiale Sta andando Al disastro A causa Di quella guerra E quindi Gli italiani Ma credo anche Le opinioni pubbliche Europee Cominciano a domandarsi Se per il puntiglio Di Biden E di alcuni altri Capi di Stato Di far vedere Che ce l'hanno Più lungo di Putin Si possa andare avanti Così Senza riaprire Quel tavolo Di trattativa Che inevitabilmente Dovrà tenere conto Della situazione Sul campo E magari anche Della storia Del Donbass Che notoriamente Non è entrato in guerra Il 24 febbraio Ma è in una guerra civile Da almeno 8 anni Che ha fatto qui 14-15 mila morti Quindi tutte queste cose La gente A furia Di leggere Di informarsi Le ha capite Dato che non riescono A convincere la gente Cercano dei capri espiatori E cioè pensano Se cacciamo orsini Dalle televisioni Se chiudiamo Quel blog Se leviamo Quell'inviato Se criminalizziamo Quell'influencer La gente Tornerà Tutta quanta A tifare Per la guerra E' l'errore Che è stato fatto In questi anni Quando si è pensato Che Trump Vincesse Per i troll Che la Brexit Vincesse Per gli hacker russi Che Renzi Abbia perso il referendum Perché c'erano I blog russi Allora Il dato Sull'opinione pubblica E' indubbiamente Quello che dici tu E faccio vedere Il cartello 3 Dunque Far sì che la guerra Finisca All'interesse dell'Italia Con un indebolimento Della Russia 37 35 Dice Far sì che la guerra Finisca Al più presto Ci sono anche altri dati Che piano piano Che ritroviamo Ve li diamo Sul fatto che insomma Gli italiani Hanno delle opinioni Su questa guerra Soprattutto se ritroviamo Quello sulle opinioni Che si sentono troppo Opinioni pro Nato E poco Diverse Da quelle Diciamo Che abbiamo citato Però Abbiamo visto Un manico Della tenaglia L'altro manico Cartello 10 I russi Contro l'Italia Cosa dicono i russi? Che c'è un comportamento Così servile Miope Che dimostra Anche la moralità Di alcuni politici E dei media italiani Una grande campagna In Italia Contro la cultura russa E i suoi rappresentanti Una linea dominante Nei mass media italiani Provoca amarezza E rammarico Ha detto Razov Oggi Il primo ministro russo Che poi insomma Quanto può essere autonomo Un primo ministro da Putin Lo sappiamo Ma dice Medved E guardate Io odio l'Occidente Sono dei bastardi Farò di tutto Perché nella mia vita Riuscire Per riuscire A eliminarli Allora Dall'altro lato Della tenaglia Che cosa sta succedendo Sul fronte della propaganda E dell'informazione? Sono parole vergognose Inaccettabili Irricevibili Lo possiamo dire noi Io Te Altri italiani Che è stato vergognoso E ridicolo Buttare fuori Dai teatri dell'opera Direttori d'orchestra russi Dalle rassegne Internazionali Fotografi russi Tra l'altro Un fotografo Che abbiamo buttato fuori Da un concorso A Reggio Emilia E tornato a Mosca Ha fatto una manifestazione Contro Putin E è stato arrestato da Putin Quindi praticamente Noi lo trattavamo Come un putiniano In Russia L'hanno arrestato I putiniani La campagna Figuriamoci Le elezioni su Dostoievski Sospese I balletti russi Sospesi Quello è stato Diciamo Un'ondata di russofobia Inaccettabile Ma questo lo possiamo dire noi Certamente Chi sta massacrando Il popolo ucraino Sta distruggendo Intere città Sta provocando milioni Di profughi Non può certamente Venire a farci la morale Sulla nostra russofobia Perché ce la fa? Che c'è stata E ancora un po' c'è Marco perché ce la fa? Ce la fa? Ce la fa? Puntavano sull'Italia? Ce la fanno Perché fanno Ma credo che Certamente fossero ben abituati Ai tempi dei governi Berlusconi Eravamo il paese più Non solo più amico Eravamo proprio Le cheerleader Di Putin Anche a livelli ridicoli Non dimentichiamo Che dopo la presa Della Crimea Ci furono delle sanzioni Violando le quali I governi Renzi E il governo Gentiloni Hanno fornito ancora Armi alla Russia Quindi diciamo Erano ben abituati con noi I rapporti con la Lega Eccetera Certe amicizie Di alcuni esponenti Dei 5 Stelle Quindi si stupiscono di più Ma ripeto Anche questa è propaganda E' una propaganda inaccettabile Perché con quello Che stanno facendo in Ucraina Non hanno alcun diritto Di andare poi A farci le pulci Su cose che Rispetto all'abnormità Dell'orrore Di questa guerra Sono minuzie Allora Nostro ospite A breve sarà Il sottosegretario La presidenza del Consiglio Bruno Tabacci Lui cosa ha detto L'altro giorno ha detto Guardate Che riuscire Con un Parlamento Del genere E ha lasciato Sottintendere Con amici di Putin Così come hai spiegato Di lunga data E di lunghi rapporti Riuscire a tenere L'Italia Su questo fronte Della guerra Quello atlantico E' in qualche modo Un miracolo di Draghi Come valuti Questa dichiarazione C'è del vero? No non c'è niente Di vero Nessun Partito Politico Italiano Quando è iniziata La guerra Si è schierato Con Putin Diciamo la verità Poi ci sono state Delle frasi Diciamo Che potevano Anche risentire Di passati Rapporti Eccetera Ma non credo Che se ci fosse stato Un altro governo Si sarebbe schierato Con Putin Semmai Se ci fosse stato Un altro governo Saremmo un po' meno Appiattiti Come soglie Ai piedi Degli americani E degli inglesi Perché la posizione Di Draghi Ci ha appiattiti Sulla posizione Degli americani Anche se poi Ha cercato di fare Un po' di retromarcia Non a caso Ci sono governi Dove non ci sono Né la Lega Né i 5 Stelle Né i populisti Come il governo tedesco E il governo francese Che sono molto più distanti Dalle posizioni americane Con loro però Marco Travaglio Con loro Draghi Si vedrà Mercoledì Si vedrà domani Draghi e Macron E in qualche modo Potrebbe nascere Un fronte europeo Non così appiattito Come dici tu Su quello americano Se si eredita La posizione Che a Washington Tenne Draghi Aspetta per la replica Perché ti voglio chiedere Ma i problemi Forse non sono Nella politica estera Sono in quella interna Cartello 13 Cosa succede Il 21 giugno Si vota Proprio sull'Icraina Draghi parla in Senato Sulla posizione italiana Il Parlamento Voterà risoluzione Sul nuovo Invio di armi E sanzioni A breve Ci raggiunge Qui il presidente Giuseppe Conte Abbiamo un'intervista A Matteo Salvini Sappiamo che Anche in forza età E forse in parte Del PD Ci sono persone Non così Nettamente Sulla linea di Draghi Cosa può succedere Alla politica italiana Io credo Che possa succedere Che finalmente Due forze Della maggioranza Me lo auguro Mi auguro Che siano anche di più Sarebbe bellissimo Se fosse tutta la maggioranza E tutta l'opposizione Dicessero Benissimo Abbiamo mandato Le armi Perché pensavamo Di ribaltare L'esito della guerra E di garantire Una resistenza Più forte Del popolo ucraino Magari poi ci spiegheranno Perché non abbiamo Mandato nemmeno Un fucile a tappo Ai curdi Visto che pare Che ci sia Questo empito Improvviso Nel difendere I popoli aggrediti I curdi Sono aggrediti Dai nostri alleati Turchi E quindi non gli mandiamo Nemmeno una cerbottana Ma in ogni caso Ammesso e non concesso Che sia vero Tutto quello Che avevamo detto Adesso Dato che questo Non funziona Che i russi Si sono presi Tutto il Donbass E il doppio Del territorio Pari alla metà Del territorio italiano Vogliamo finalmente Cambiare registro Tiriamoci indietro Per un attimo Sulle armi Andiamo avanti Con le sanzioni E proviamo a vedere Se riusciamo A smuovere Quel macigno Che ormai Si frappone Tra l'Europa L'Occidente E la Russia E avviare finalmente Un dialogo Potrebbe essere Un'ottima iniziativa Da portare Anche ai francesi E ai tedeschi Per non andare Sempre a rimorchio Degli altri Ma per proporre Qualcosa di un po' Più innovativo E forse più utile Allora Stanno arrivando Giuseppe Conte Pierluigi Bersani Ti chiedo anzi Di stare con noi A sentire cosa dicono E poi torniamo A parlare Delle conseguenze Delle conseguenze Sulla politica italiana Ti avevo promesso Un cartello È il 70 Guardate L'opinione pubblica Alla fine Un po' Si è sempre detta Allora guardate È sempre Ipsos In Italia L'informazione Sul conflitto In corso Tra Russia e Ucraina È stata Troppo sbilanciata A favore dell'Ucraina E di Zelensky Neutrale E oggettiva 27% Troppo sbilanciata A favore della Russia Di Putin Come si formano Le opinioni Gli italiani E sai una cosa Che non mi tornava Della tua lettura iniziale Il fatto che si muovesse Tutti questi attori Che poi hanno portato Sicuramente A delle liste O delle informative A qualcosa Hanno portato Che si muovessero Di concerto E non fossero Più che altro Delle iniziative Disordinate Goffe Di singoli Personaggi O settori Che idea ti sei fatto Tu su questo Che ovviamente Ognuno la pensa Come gli pare Io ho letto Che c'è un pericoloso Dentista di Saluzzo Che tre anni fa Si candidò Con la Lega E che niente Po' po' di meno Sui social Attacca Draghi Speranza e Biden E sta in questo Rapporto Dei servizi Dopodiché c'è Un rapporto Non di altissimo livello Dopodiché c'è C'è un minaccioso Blogger Di 85 anni Che ha scritto Delle cose Sulla guerra in Donbass Quella che è durata Otto anni E noi non ce ne siamo accorti Anzi è vietato dirlo È vietato dire Che in Donbass È stato assassinato Un giornalista italiano Che si chiamava Andrea Rocchelli E che Kiev Non ha mai collaborato Con la magistratura Per prendere I suoi assassini Ci sono tante cose Che non si possono dire Ma chi le dice Le dice sul suo blog Sulla sua pagina Facebook L'idea che dietro ci sia Putin È una supersonica minchiata Che basta leggere Questo rapporto Per rendersi conto Di quanto tempo Perdono I nostri servizi E il nostro copasir A inseguire i fantasmi Ad acchiappare i fantasmi In questa roba Usando la logica Marco Travaglio E non le informazioni Che magari non abbiamo Se ne hai Usale I soldi da Mosca Sono partiti Dove andavano Secondo te Cioè Se bisogna Toccare Ecco prego Io vorrei Leggere Ecco la lista Dei Putiniani C'è Tizio Che ha ricevuto Tot rubli Su quel conto Eccetera A quel punto Quello si può difendere Dicendo il conto è mio Il conto non è mio È un omonimo Eccetera Oppure Tizio parla regolarmente Con Putin O con un addetto Della propaganda Di Putin Che gli dà gli ordini E lui li esegue Non sarebbero reati Nessuno dei due Ma almeno si capirebbe Che cosa stanno facendo I servizi Se invece Tu vai a vedere C'è Tizio Che fa il reporter In Donbass Da otto anni E racconta I crimini Degli ucraini Ai danni Dei russofoni Eh Quello non è Un agente putiniano Salvo che ce lo dimostrino È uno che ha visto Gli orrori Che sono stati denunciati Dall'ONU Dall'OSCE E da Amnesty International Che non mi risultano Organi della Duma O del Cremio Allora Marco Davani Sono organizzazioni Imparziali Che per sette anni Ci hanno raccontato L'altra faccia Della guerra in Ucraina Cioè di orrori Commessi Dal battaglione Azov E dalle truppe regolari Contro i russofoni In quella zona Tra l'altro Avremo due testimonianze Avremo due testimonianze Di persone Che sono state Nel Donbass Nell'epoca in cui dicevi Uno la pensa in un modo Una in un'altra Quindi è proprio il bello Dell'essere giornalisti Avremo Trevi E Fazolo Il secondo Nella Il secondo Nella lista Di qui sopra Allora Marco Ti prego di rimanere con noi Ascoltiamo Cosa hanno da dire Conte e Bersani Poi torniamo a parlare Dei leader Diamo il benvenuto A Pierluigi Bersani Buonasera Articolo 1 Presidente Giuseppe Conte Due volte Presidente del Consiglio Leader del Movimento 5 Stelle Bentornato Parla da 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 Palermo Benvenuta Ginevra Bompiani Buonasera 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 Illusione per Feltrinelli Gianni Riotta Giornalista Editorialista Di Repubblica E Marcello Sorgi Editorialista Della Stampa Allora La lista Questa lista Di cui stiamo parlando Cartello 11 Nomi fatti Da un autorevole giornale Al Corriere della Sera Che sarebbero stati presentati Come Rete filorussa Al Copasir Materiale per il Copasir Gabrielli Ha detto Noi I servizi Non le hanno fatte Né dossier Né liste Partiamo da un Ex Presidente del Consiglio Che impressione Le fa questa vicenda Giuseppe Conte Quella lista Mi ha impressionato Negativamente Perché Leggere Su un autorevole Quotidiano Vedere delle foto Segnaletiche Postate Pubblicate In prima pagina E Vedere Questa accusa Di essere filoputiniani Poi non si comprende Cosa Hanno espresso Delle opinioni Diciamo Che potrebbero Non essere Conformi Al pensiero unico Che si vuole imporre Sono opinioni Dissensienti O invece Hanno preso soldi Dal regime russo Per propagandare Le autorie Del regime russo Qui in Italia Che è una questione Completamente differente Ecco Stiamo molto attenti Io dico Quella lista Francamente Non mi ha affatto piaciuta Anche io Devo dire Sono stato Accusato Di essere filoputiniano Ci arriviamo però Alla parte politica Filoputiniano Legazionista Stiamo su questi fatti Pierluigi Bersani Cosa c'è di inquietante Cosa c'è di legittimo Perché forse I servizi Un'informativa Su di me L'avranno compilata Su di lei L'avranno compilata Su Riotta Su Sorgi Ma guardi Che l'Italia Sia adusa Diciamo A questi Meccanismi A queste trappole A queste fughe Di notizie Io sono invece Per ricondurre La cosa Alla necessità Che ci sia rigore In una democrazia Che non è in guerra Si combattono Con le notizie vere Cioè col quarto potere Con la stampa Con i giornalisti Che hanno la schiena dritta Allora Se invece Se invece Si pensasse Che c'è una centrale estera Che sta organizzando Dei meccanismi Di destabilizzazione Si chiamerebbero Penso che ci arriveranno Gli 007 Non le indagini conoscitive Del Copasir Se ci sono Perché A prendere il tema Dalla coda Cioè Dalle indagini Conoscitive Cos'è un'indagine Conoscitiva Beh non lo so Si chiede Ma quello che si può Fa delle indagini Conoscitive Ho sentito Poi vengono fuori Queste cose Qui Allora Non vorrei Che venisse fuori A prenderla così Dalla coda Che adesso Finisci in un elenco Anche il sovrintendente Della scala Che apre la stagione Con Mussoschi No? Perché abbiamo già Cominciato con Dostoievski E potremmo finire A Mussoschi Gianni Riotta Tu finisci Al centro Di una polemica dura Perché pubblicasti Una lista Che aveva fatto La Columbia University Mi pare Di persone sensibili Diciamo Al mondo Saluto Tutti gli amici La signora Ginevra Bompiani Non è che Putiniano Essere Putiniano È un insulto È un aggettivo Cioè Se tu scrivi Posizioni Filo la Russia Di Putin Sei Putiniano Cioè non è che sei Putiniano Solo se prendi soldi da Mosca Non è così Se puoi essere Filocastrista Non è che devi prendere I soldi da Cuba Li prendi Scrivi quello che vuoi Oppure non li prendi Scrivi quello che vuoi Allora C'è in Italia Una forte corrente Filorussa C'è Basta leggere i giornali Tutti gli amici Tutte le persone Che sono state Indicate Da Fiorenza Sarseni E da Monica Guerzoni Sul Corriere della Sera Che sono due giornaliste Molto brave Molto veterane Molto serie Io non penso Che siano pagate Da Mosca Affatto Penso che però Se tu vai a controllare Quello che hanno detto Non ho preso posizioni Filo Ma allora non ci deve pensare Il Copasi E di 007 No ma io del Copasi Segretario No ragazzi Perché qua Stiamo andando fuori Dal seminato Non la so Gabrielli so che ha smettito Mi pare Gabrielli Vediamo il cartello Mi pare sia il 70 Ha detto questo E L'interno L'intelligenza italiana Non ha mai stilato Alcuna lista di politici Giornalisti Opinionisti O commentatori Ne ha mai svolto Attività di dossieraggio Attenzione Non ha mai stilato la lista Non ha mai fatto dossier Non significa Che qualcuno Abbia scritto Ah Marcello Sorgi Prego Adesso così Provo a indominare Premessa Io sono contrario alle liste Per una ragione Molto Anzi Mi fa piacere Che ci sia qui Riotta Perché gli vorrei chiedere Se non si è un po' pentito Di aver composto Una delle prime liste Assolutamente no Ora di questo parleremo Assolutamente no Io sono contrario Non lasciano cadere il tema Di Sordata Gianni Rio Tra la prima Una parentesi Ma ti spiego subito Cosa è Qua sono una domanda Ma ora torniamo Su di te Con Conte Il genere è un appiattimento Capisci Per cui Qualche nome Qualche dubbio Lo dà Però per esempio Nella lista Di Gianni Io rimasi sorpreso Su Barbara Spinelli Nel senso che Barbara Spinelli La conosciamo Noi ci abbiamo lavorato L'abbiamo E' una persona Come dire Una dissidente Per tendenza Però perdona Marcello Tu hai detto Ti spiego Cosa è successo Poi torniamo Con il tuo parere Dopo che abbiamo sentito Conte Devi sapere Che in ogni legislatura C'è una commissione Che impazzisce Ti ricorderai Qualche anno fa Impazzì la commissione Di vigilanza Sulla RAI E l'esse un presidente Che non si voleva dimettere Poi in questa Ce ne sono state due La commissione esteri Che è stata Dovuta La presidente L'ha dovuta Radere al suolo Per togliere Il presidente Che non esprimeva Posizioni Accettabili E sotto sotto È impazzito Anche il Copasir Perché Il Copasir Svolge Delle indagini Che sono sorprendenti Per esempio Convoca l'amministratore Delegato della RAI E gli chiede Conto di come La RAI Fa informazioni Non è compito suo Ora Questa storia Della lista Dei servizi Come me la immagino io Siccome il presidente Del Copasir Ha per definizione Rapporti Con Delle strutture Che possono fare Indagini Chiama un colonnello Chiama un generale E gli dice Chiama anche Un responsabile Di una struttura Piuttosto forte E gli dice Informalmente Me la fa una lista E mi dà Delle informazioni Una cosa terribile però Questo succede Una cosa terribile Attenzione Allora Questo succede Un ex ministro Nonché segretario Di partito Questo succede Senza che il presidente Del consiglio Ne sappia niente Certo Infatti Quello volevo immaginare Il presidente del Copasir Decide se farci una seduta Anche perché Cosa ha detto Urso Presidente del Copasir Guardate il cartello Il presidente del consiglio Questo paese funziona così Ogni tanto impazzisce Una commissione del parere Certo Quando impazzisce Il Copasir È un po' più preoccupante Ha detto Urso Il comitato parlamentare Ha attivato Un'indagine conoscitiva Non abbiamo sul tavolo Un elenco di nomi Ma abbiamo delle informative Sull'attività di questa macchina Propagandistica E' quello che ho detto No E' come se dicesse Io ho chiamato Io ho chiamato Il colonnello Ho chiamato il colonnello Gli ho detto Fammi delle schede I giornalisti Tendono a parlare Troppo Qua abbiamo delle istituzioni E abbiamo Un giornalista Che ha No Può spiegare al presidente Conte Perché non si è pentito Quando gli ha detto Marcello Sorgi Ma presidente Allora Perché non si è pentito Di aver fatto la lista Saluto il presidente Conte Che è nella mia E anche di Marcello Città di Palermo Dove ho letto Dalle cronache Che ho già avuto Un successo straordinario Quindi penso Che il presidente Conte Oltre al mio pentimento E ben prima Al mio pentimento Ho presunto Gli interessa Sapere come va La campagna elettorale A Palermo E in bocca al lupo Il tema No Io non mi sono pentito Perché non c'era Nessuna animosità Ma ce l'ho fatto benissimo A ricordare Il lavoro comune Che abbiamo fatto Con Barbara Spinelli E ricorderai Che qualche volta I suoi pezzi Sulla guerra a Jugoslavia Erano talmente atlantisti E talmente schierati Sulla linea Più transista Però perdonami A me non interessano I singoli nomi A me interessa Il concetto Perché stili Una lista di persone Perché prendi Dalla Columbia Una lista di persone Che la pensano Tutta allo stesso modo Quell'opinione lì Le Mondo Ha fatto un articolo Dicendo Perché in Italia C'è questa ondata Putiniana Va bene Quindi non sono io Tutto il mondo Ha scritto questa cosa Le Mondo Fate parlare Poi Marcello Torniamo a te In più L'ambasciata russa Ha sciolto il nodo di cordia Marcello Perché ha rituitato La Barbara Spinelli Perché? Perché i dubbi Di Barbara Sulle strage di Buccia Sono vergognosi E fammi dire Un'altra cosa Siccome Il professor Cacciari dice Oggi dice Una cosa folle Riottolo mi attacca più Perché il suo padrone Gli ha chiesto Di non attaccarlo Da oggi in poi Lo attaccherò tutti i giorni Io non lo attaccavo più Però non qua che non c'è Non vi portate il lavoro da casa Presidente Conte Tutti i giorni È giusto Opportuno Sensato Legittimo Stilare Una lista di persone Che la pensano Tutte allo stesso modo E il quadro Delinato da Marcello Sorgi In qualche modo Dal mio punto di vista Aggrava il peso Della situazione Presidente Conte Pierluigi Bersani È confermato da Urso Confermato da Urso Io può essere Pure che mi sbaglio Ma Urso L'ha confermato Con un comunicato Prego Guardate Io non voglio assolutamente Sottovalutare La gravità Di questi atteggiamenti Perché Se noi facciamo Delle liste di proscrizione Se pubblichiamo Delle foto segnaletiche Non su un giornale qualsiasi Ma su uno dei Forse più autorevoli Quotidiano italiano Noi che cosa stiamo creando Un meccanismo Per cui Domani mattina Chi deve esprimere Un'opinione più articolata Un ragionamento particolato Viene frenato Viene come dire In qualche modo Conculcato E sicuramente In un sistema Decomocratico Come il nostro Non si possono Mettere insieme Cose diverse L'intelligence È preordinata A garantire La sicurezza nazionale Il comitato parlamentare Vigila È il controllo Di un organo parlamentare Che tutto si svolga Ovviamente in regola E quindi ci sono le massime garanzie Dei presidi democratici Ma attenzione Attenzione Non possiamo mettere In una lista Persone che spivano Delle opinioni Più articolate Delle opinioni anche Che possono essere Assolutamente Non condivise Attenzione E non possiamo Additare Al pubblico Ludibrio Persone che Invece facciano Questi ragionamenti Se mai Lasciando intendere Che mettono A rischio La nostra sicurezza nazionale Bersani Con questo Non dobbiamo giocare Gli effetti Di quello che è stato Fatto Non solo Quello che è stato fatto Bersani Ci dice il clima In cui stiamo vivendo In questo periodo di guerra Insomma È un clima Che Lascia intendere Che noi siamo in guerra Non siamo in guerra Appunto Stiamo dando una mano All'Ucraina A difendersi Da un'aggressione E quando D'altronde È una curiosa guerra Questa no Zelensky parla con tutti I leader si telefonano Ogni giorno Due ore uno Tre ore l'altro Poi uno non può dire la sua Qui In Italia Ma siamo fuori Allora Io No perché qua Secondo me siamo un po' fuori Allora io torno al punto Però ha sentito Riotta Riotta dice È bene farle Perché almeno ti orienti Ma non è roba Da coppasi E da servizi Se Riot Non è d'accordo Con la Spinelli Glielo dice Si telefona Io non sono d'accordo Su tante cose C'è Glielo dice Allora Attenzione Bene Io torno al tema Secondo me Di fondo Su cui bisogna Assolutamente Intervenire Secondo me Anche i presidenti Di Camera e Senato Deve intervenire Perché Leggevo l'intervista Oggi di Durso No? Sì Diciamo D'altronde Anche la Golden Share L'abbiamo estesa Dai temi della sicurezza Ai temi delle telecomunicazioni E questo ne consegue Che il Copasir Insegue Sulle telecomunicazioni Chi Che cosa Ma stiamo Il Copasir Ha il compito Di sorvegliare Di vigilare Che gli apparati Di sicurezza Stiano dentro Alla Costituzione E alle leggi E su questo Riferire al Parlamento Punto Quindi che non facciano dossier Al limite Allora aspettate Ginevra Bonpiani Scrittrice Saggista Che idea Si è fatta? Beh Mi pare che stiamo parlando Una cosa che non è stata ancora nominata Ma che è Chiaramente L'inizio di una caccia alle streghe Questo Di questo stiamo parlando Io non penso che sia l'inizio Penso che sia La punta Emersa Di una caccia alle streghe Che è cominciata Già da tempo E che sulla guerra È chiarissima Chiarissima E Direi Quando Piove Provisamente Spuntono i funghi Non è così Spuntano questi funghi E questi funghi Sono già lì Da tempo Queste liste Di proscrizione Che sono Un'infamia Un'infamia Da servizi segreti Sono In realtà Partengono a un clima Questo clima C'è C'è in Italia Ed è molto grave Questo clima Qual è? In Italia Il clima è quello Della caccia alle streghe Chi è la strega? Non bisogna parlare In modo diverso Dal 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 governo E dalla stampa La stampa Allora Ovviamente Attenzione Perché vi sto portando A un tema Diverso Ma immagino Sia Riotta che Sorgi Abbiamo una piccola cosa Da dire A riguardo Prego Ancora sulle liste Riotta No Sulle liste Ho sentito Con grandissimo interesse La Signora Gina Da Bonpiani Pensiamo per esempio A Furio Colombo Ma perché nessuno dice Che Furio Colombo A proposito di libertà Di espressione E' stato epurato Dal suo stesso giornale E' direttore del giornale Fatto? No Perché lui ha detto Io non posso più scrivere Capisco che tu vuoi difendere il fatto Però fammi finire No Voglio dire come sono andate le cose Capisco che tu vuoi difendere le cose Ha fatto benissimo Dal mio punto di vista Perché era isolato Però Lui ha detto Non posso più scrivere su questo giornale E quando i giornalisti del fatto Comitato di redazione Ha detto Siamo solidari con Furio Colombo Sono stati bacchettati dal direttore Allora Questo vuol dire Che non c'è libertà di stampa Per Furio Colombo La libertà di stampa Il segretario lo sa benissimo Tu prendi delle opinioni Fammi finire No Fammi finire Fammi finire No Però Però Segretario Segretario Per me Fatelo a voi giornalisti Fate quello che volessi Segretario Però tu mi devi dare atto Che io Il mio articolo è stato fatto un mese fa E non c'è niente col Copasi Perché Sul Copasi Io sono d'accordo con te Sono d'accordo con te Perché se esce la fine No Che il mio articolo È quello di Firenze Avete riportato uno studio Della Columbia All'Università Non c'è nulla che fare Quindi mi chiedo Ci sono anche Cosiddetti persone Che contrastano Putin Che stanno pagando il prezzo Vedi Furio Colombo Che è stato costretto A lasciare il giornale Che aveva fondato Il fatto Marcello Sorgi Cartello sul 21 giugno Guardate cosa succede Torneremo a questo argomento Della libertà di pensiero Ma dobbiamo Aprire Una parentesi Che ci spiegherà anche Altre cose Draghi Il 21 giugno Parla in Senato Sulla posizione italiana Il Parlamento voterà Risoluzione Su un nuovo invio Di armi e sanzioni Questa apre in qualche modo La pagina politica Legata alla guerra Ma la domanda Ti faccio io è Noi invitiamo Tanti leader politici Invitiamo leader politici Che vengono Che non vengono Che accettano Di essere in compagnia Di qualcuno E in compagnia Di qualcun altro No Perché Bersani e Conte Hanno accettato Di essere insieme A Di Martedì Probabilmente Perché siamo Perché siamo brave persone Io poi ho una domanda Per Bersani Ma sai Bersani e Conte Sono quasi Sulla stessa posizione Così come Salvini E Santoro Per esempio Cioè La novità di questa guerra È che vede Sulle stesse posizioni Persone che Avevano le posizioni simili Tipo Bersani e Conte No Dico Persone che avevano Posizioni simili Come Bersani e Conte E persone che avevano Posizioni opposte Come Salvini e Santoro Cioè E non lo capiresti mai Perché Salvini e Santoro Sono sulla guerra E peraltro Conte e Bersani Fanno finta Di non accorgersi Che Salvini È sulla loro stessa posizione Ma la domanda Che io faccio È questa Il 21 giugno Si discute Della posizione italiana Sulla guerra E degli aiuti All'Ucraina La contestazione Che è venuta Sia da Conte Sia da Bersani Sia da Salvini Qual è? Ma insomma Questo presidente Del consiglio Spende un sacco di soldi Per dare armi All'Ucraina Sta portando Il paese in guerra E poi Non si occupa Invece Dei bisogni reali Del paese Ma quando mai Ho detto Una stupidagia Conte 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 Non ha votato Per questioni Conte 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 Seconda cosa Draghi è andato Da Biden E ha detto Guarda è ora di farla finita Con la guerra Bisogna avviare Un'azione diplomatica Bisogna spingere Perché ci sia una trattativa E la pressione più forte La devi fare tu Che sei quello Che è da dietro L'Europa Chiede la pace Allora Anche la pressione Sul piano diplomatica Mi sembra che il governo L'ha fatta Quindi I due principali elementi Di critica Alla posizione Del governo Sulla guerra Erano questi E mi sembra che Draghi li abbia ascoltati La domanda che io faccio è Ma se questo non basta Che cosa si vuole dal governo? Cioè si vuole Presidente Conte La risposta E poi sentiamo anche Di Luigi Marzano Si vuole che il governo Cambi posizione Rispetto alla collocazione Internazionale d'Italia Si vuole che il governo Sia un po' meno atlantista Si vuole che il governo Sia un po' più vicino Alla Russia E questo vogliamo sapere Lei dà la domanda E anche le abcd Le risposte La risposta Siamo libera Dopo le crozette Le mette Conte Sentiamo Bersani Poi una domanda Di Riotta Per Conte e Bersani Sempre Prego Presidente Conte Mi invito a considerare Che qui si mette In discussione L'atlantismo Semplicemente perché Si cerca Da parte mia Del Movimento 5 Stelle Di dare un contributo Alla fase Che stiamo vivendo Ormai Sono oltre tre mesi Che è iniziata la guerra E qui dobbiamo chiederci Non più come siamo entrati in guerra Ma come uscirne E il fatto che stiamo dando Un contributo A ravvisare Una modalità di uscita Da questa guerra Automaticamente Significa mettere in discussione La collocazione E la collocazione Euro-Atlantica Se io avessi ragionato così Durante il periodo Più duro della pandemia Non dovevo mettere in discussione L'Europa Non dovevo imprimere Una svolta All'Europa Quella svolta Che ha salvato il Paese E ovviamente In prospettiva Ha portato 209 miliardi Per il recovery fund Lo dico molto umilmente Lo ricordo molto modestamente Allora Cerchiamo di distinguere Di fare ragionamenti Articolati Noi siamo quelli Che dall'inizio Hanno detto Il Movimento 5 Stelle Ha detto Condanna ferma Condanna senza sé Senza ma Della Russia Di Putin E della sua aggressione Abbiamo anche detto Assolutamente sì Aiuti all'Ucraina Una popolazione Assolutamente Non può rimanere Inerme E lasciata Difendersi da sola Di fronte a una tale Asimmetria Per quanto riguarda La potenza Gli armamenti E la capacità militare Però oggi Caro dottor Sorgi Mi sembra che la questione Non sia più questa Gli Stati Uniti Hanno deliberato Al congresso 40 miliardi di dollari Di aiuti ulteriori All'Ucraina La Gran Bretagna Ci ha confermato Che manderà Ulteriori Armamenti All'Ucraina Mi sembra che l'Ucraina Sia sufficientemente armata E anche l'Italia Ha fatto il suo Con tre invii Di forniture militari Allora possiamo Dibattere in Parlamento E cercare Allora Di condividere Con le varie forze politiche Se poi La Lega Poi vedremo Io non mi preoccupo Come dite voi Presidente E con me Fingo di non accorgermi Questo è un fatto Secondario Se la Lega Se Salvini E altre forze politiche Convergeranno Siamo anche Nelle dichiarazioni ufficiali La crisi non c'è Dice Sorgi Che è un esperto Lettore In filigrane Presidente Aspetti Sentiamo Pierluigi Bersani Prego Ma a me pare Che il corno del dilemma Sia stato In queste settimane Forse adesso Mi auguro un po' meno Fra diverse parole Chi dice Sconfiggere Vincere Indebolire Tirare di lungo Andrà di lungo E chi dice Subito Cessate il fuoco Anche con questa situazione Sul campo E quel che è Diciamo Non risolto Lo si affidi A un negoziato Alle pressioni internazionali Alle sanzioni A quel che volete Ma basta con i massacri Io credo Che la posizione italiana Effettivamente Abbia avuto Un'evoluzione Se c'era qualche incertezza Su questa Seconda parte Perché per esempio Se io leggo I cinque punti Del piano di pace Che è stato trattato Un po' così Quello di Di Maio Ma benissimo Ma a me sembra importante Perché comunque Certifica di una posizione italiana Ora Il Parlamento Votò Per L'aiuto I militari Fino a fine anno Forse Se c'è un punto Che vale la pena Ancora chiarire È quello Cioè Noi abbiamo mandato Anche armi Perché l'Ucraina Aggredita Potesse Impiedi Negoziare Un compromesso E la pace Perché se si trattasse Invece di vincere Il secondo pezzo Dell'articolo 1 Della Costituzione Che dice Che Non regoli Con la guerra Le controversie Internazionali Ci impedirebbe Ok Quindi io sono Molto tranquillo Sul fatto Che quando arriva Il 21 giugno Eccetera Eccetera Si trova Una posizione Che Sia in grado Le diceva La postura La postura La postura Mi faccia dire Il sorgio Prego Faccia dire il sorgio Io capisco tutto Ma Insomma Dice Ci sono i putiniani In Italia Ci sono Ma noi abbiamo Una storia Alle spalle Non mi può Sbattere assieme A Salvini Io non ho mai detto Che darei due Mattarella Per un Putin Non può Sbattermi Con Berlusconi Non abbiamo Mai scambiato Letti A baldacchino E neanche Diciamo Coperte Cose Eccetera Parlavo Della posizione Finale La posizione Finale Io sono Ser Proprio Proprio Esente Da servo Incomio E codardo Oltratti Se posso Cambiare Argomento Io vorrei Chiedere Al segretario Bersani Al presidente Conte Quale Traguardo Che riterrebbero Vittoria Per Il centrosinistra Alle elezioni Amministrative Ballano Genova Balla Palermo Si dice che Il centrosinistra Sarà sconfitto Qual è Segretario Presidente La vittoria Per voi Del centrosinistra Conquistare Verona Cioè Quale risultato La lunedì sera Voi considerate Parlando Dei telegiornali Un buon risultato Per il centrosinistra I 5 Stelle Ma io La dico così Molto Panalmente Affidandomi Alla statistica Nel 2012 Il centrosinistra Vinse Dappertutto Da Treviso A Catania A Arcore Dappertutto Nel 2017 Perse Dappertutto Le Roccaforti Tutto Proprio Siena Tutto Adesso Io mi aspetto Un rimbalzino Questo Presidente Conte Ma Quando sente Bersani Che parla In centrosinistra Si sente coinvolto Anzi Passo Aspetto La sua risposta Chiedendo A Ginevra Bompiani Centrosinistra Ce li vede Loro due Insieme Bersani Con Conte Non mi è sempre successo Anzi Non è mai successo Ma Molte cose Le apprezzo Moltissimo E per esempio Il suo La sua Battaglia Per Non Mandare armi In Ucraina Ma mi chiedo Perché non l'ha fatta Fin in fondo In qualche misura L'ha spiegato prima Dice Era una fase di venza Mi risponde Sul Presidente Conte Mi risponde Se l'avesse fatta Fin in fondo Presidente Conte Mi risponde Sull'idea di centrosinistra Se si sente coinvolto Quando se ne parla E cosa ve vince Mi sento più coinvolto Quando si parla Di campo progressista Lei è molto di sinistra In questo momento Perché è una differenza Che capite solo voi due E' un classico della sinistra Però ce la spieghi Cos'è il campo progressista Diverso dal centrosinistra Così ci dà un flash lei Un flash Bersani E vi porta avanti Centrosinistra Più 5 stelle E' un campo uguale E' un campo progressista E' mica difficile Ah Ho capito Cioè centrosinistra Si allarga Fino a avere qualcosa Di molto diverso Che è il 5 stelle E così Centrosinistra Non è molto progressista Diciamo la verità Stiamo finendo In un casale di capalvio Vi offenso Presidente Conte Mi dica lei Le dico guardi Centrosinistra Richiede un trattino E quel trattino Voglio dire E' simbolico Campo progressista Non richiede un trattino Quindi significa Elaborare un progetto insieme Con pari dignità Tra le forze ovviamente Che ci stanno In particolare Con il PD Articolo 1 E poi offrire Un progetto Di miglioramento Della società Senza guardare A esperienze E il passato Che fanno parte Di una stagione Direi superata Con tutto il rispetto Ovviamente lo dico Così Bersani Ma sì Io credo Mi auguro Che a proposito Dei risultati Amministrative Che Finiti i ballottaggi Arrivi un incoraggiamento A fare Nell'autunno Un appuntamento Che renda visibile Quel che può essere Un manifesto Del campo progressivo Perché sia sui diritti sociali Sia sui diritti civili Secondo me Possiamo presentare Delle novità Delle cose Delle cose importanti E adesso Però Bisogna darsi una mossa Non è la prima puntata In questa Per farvi fare Un passo in avanti Io chiedo Alla regia Avete L'RVM Dell'ambasciatore Americano In Russia Quello che ha detto Vediamo Se lo recuperiamo Lo sentiamo Per raccogliere E riparare Quello che è stato Frantumato Dagli eventi Di quest'anno Ci vorranno Tanti sforzi Mi chiedo Sempre da dove Cominciare Intanto Le nostre Ambasciate A Musca E Washington Restano aperte Anche se ora Abbiamo pochi temi Da discutere I nostri Cosmonauti Ad astronauti Le nostre Agenzie Spaziali Sono interdipendenti Ci sono state Telefonate Tra i ministri Della difesa E tra i capi Degli stati maggiori E si tratta Di un bene Dobbiamo mantenere La capacità Di parlare L'uno con l'altro C'è poco altro Da aggiungere A questo Piccola pausa Si riparte Luca e Paolo Avete visto Un'intervista Quella Dell'ambasciatore Americano A Mosca Che lascia Intendere Che bisogna Tenere Dei fili Questi fili Non vengono Tenuti aperti Da Putin Cartello 31 Cosa ha detto La Russia Sta schiacciando Come non usci Le armi Americani Inviate All'Ucraina Se l'Occidente Fornirà Missili A lungo raggio A Kiev Colpiremo Strutture Finora Risparmiate Dalla guerra Ora La linea Va Laura Gobetti Che ci dice Che ci sono Altre novità Che delineano Lo scenario Sì Giovanni Alcune di queste Riguardano proprio L'invio Delle armi Ne abbiamo parlato Se ne discute Moltissimo Allora L'agenzia Che ci riferisce È un'agenzia Ucraina Quindi la fonte Ucraina E parla della Bulgaria Che avrebbe deciso Di non inviare Più armi All'Ucraina Dall'altra parte Però invece C'è Varsavia Lo sappiamo Che finora Ha inviato armi E ritiene Di dover continuare Su questa linea Ti rendo conto Anche di una Intervista Che la Merkel È la prima volta Che parla Dopo aver lasciato Suo ruolo Ovviamente Ha rilasciato A Dea Spieger E naturalmente Torna sulla vicenda Dell'Ucraina La definisce Una vicenda gravissima L'attacco della Russia Dice un attacco Senza giustificazioni Ha detto L'ex cancelliera E ha detto È stato anche Un grande errore Da parte Della Russia La considero Una cesura Però poi Ripensando al suo ruolo E a quello che ha fatto Durante appunto Il suo mandato Ha detto Io comunque Non mi pento Di aver trattato Con la Russia Questi gli ultimi aggiornamenti Della Bulgaria Chi è che ha dato Questa notizia? Cioè ha dato appunto L'agenzia ucraina Quindi noi per ora Sappiamo Che questa è la fonte Abbiamo infatti controllato Anche che non fosse Una fonte russa E l'agenzia È Ucraina 24 Quindi questa è Diciamo la fonte Allora Altri segnali Che vi do Cartello 40 Cosa ha detto Zelensky? Zelensky dice Sulle truppe russe A Severodonetsk Stiamo tenendo duro Ma loro ci sopravanzano Numericamente E sono più forti I nostri eroi Mantengono le loro posizioni In città Continuano aspri I combattimenti di strada Ha aggiunto Allora I Diciamo Gli esperti I tattici I militari E Verrà da noi Carlo Parolisi A spiegarlo A breve Parlano di questa guerra Come di una guerra Di attrito Che succede? Quando le forze Sono paritarie Si forma una stasi Uno stallo Che chiaramente Drammaticamente Favorisce I più forti Quindi in questo caso Favorisce I russi Perché sono Semplicemente Di più Di tutto questo Andremo a parlare E di tutto questo Oltre alle cose italiane Ma prima Un bel respiro E torniamo Luca e Paolo Ciao Eccoci qua Siamo tornati Abbiamo visto il programma Abbiamo visto Conte Versani Noi siamo Luca e Paolo Senza il trattino in mezzo Come campo progressista Senza il trattino simbolico Perché stavamo guardando Pensavamo a tutte le cagate Che ha fatto il centro-sinistra Ma l'unica cosa Che non piace a Conte È il trattino È complicato Va bene Floris I nostri politici Ma tutti Dovrebbero tranquillizzarsi Sì ormai ci hanno abituato Talmente male Che per fare bella figura Con tutti Basta davvero poco Ma sì In particolare Se vogliono stupirci Questa settimana È sufficiente mostrare Di sapere usare una cosa Il cervello? No meno meno Google Maps Ecco Perché con l'arrivo dell'estate Insieme ai tour musicali Lo sapete Voi tutti in studio C'è un'altra importante manifestazione Che diventa itinerante E gira in tutta l'Italia Il fanta giro merda estate Eh sì Benvenuti Sapete dove In fondo Perché schiacciarla Solo nei palazzi del potere Ci sono tante piazze italiane Tante piccole comunità Che sognano di vedere Da vicino i loro beniamini Schiacciare i merdoni Sì a dare il via Alla tournée del fanta merda È stato ovviamente lui Il campione in carica Il Nadal della figuraccia Matteo Salvini Ah che bravo Matteo Grazie grazie Sta girando E lui è un po' La nostra punta di diamante Sta girando l'Italia In campagna elettorale Per le amministrative Di domenica prossima Eh sì In fondo aveva bisogno Di una tappa amica Del calore del suo pubblico Di un bagno di folla Che gli ricaricasse le batterie E sto cervellone Dove è andato a fare Il suo primo comizio? Ad Aviano Cioè lui Profilo putiniano Stile alla Nato Apertamente critico Versi gli Stati Uniti Dove va a parlare? Nel paese che ospita La più grande base americana Del sud Europa Cioè ad Aviano Ci sono 8000 abitanti italiani 8500 soldati Nato Cioè ad Aviano Ci sono così tanti americani Che nelle aule scolastiche Al posto della foto di Mattarella C'è appesa quella di Lutbach E se pensi Il 31 di dicembre Il discorso di fine anno Lo fa Lutbach Volevo fare tanti auguri Di buon anno Pieno di mitragliatrici Di guerre fratricide Invece di mangiare la pizza E il gelato Come gli italiani Cacassotti Salvini non sa usare Google Maps Ed è andato lì E in comizio È andato male È malino Poche persone Scarso entusiasmo Quasi nessun selfie Strano Come mai? Devo dire che ha scelto Anche un orario particolare Per la visita Il momento in cui In TV c'era Italia Germania Quindi non dico Non dico Saper usare Google Maps Ma almeno Saper leggere TV sorrisi e canzoni Insomma In pieno sbarrimento Psicogeografico Matteo ne ha fatto un'altra Però ha anche rilanciato La ricandidatura di Fontana Sì Alla presidenza Della regione Lombardia Fontana ve lo ricordate Forse abbiamo anche la foto Sì Quello che metteva le mascherine FFP2 sugli occhi Invece che sulla bocca Per dire no? Ed era un momento drammatico Però lo riviviamo Ecco Salvini Questo lo ricandida Al grido di squadra Che vince Non si cambia E aggiunge Come il Milan Ora Il Milan ha vinto Lo scudetto È stato elogiato da tutti Per il lavoro svolto Fontana no Ecco piace dirlo Ma più che il Milan Fontana Somiglia più al Genoa Moltissimo Ha fatto un campionato Un po' più Ma l'astro nascente Del fantagiro merda estate È proprio Un amico di Fontana Un altro Cervellone Della Lega L'ex assessore Alla sanità lombarda Giulio Gallera Ve lo ricordate? No Gallera Un'altra fotina Eccolo Questo è quando Mi face male Vabbè Era Era quello che aveva Talmente chiaro Come funzionasse La diffusione del virus Che spiegò Che per prenderlo doveva incontrare contemporaneamente Due persone positive È proprio così Ebbene Giulio Gallera Ha scritto un libro Eh sì E si intitola Diario di una guerra Non convenzionale Racconta dello scontro epico Tra lui e l'esame Di quinta elementare No No Racconta i giorni Drammatici del covid In Lombardia In cui obiettivamente La sanità lombarda Ha lasciato molto a desiderare A parte che Fa ridere Perché presentando il libro Ha detto Oh sia chiaro Che questa Non vuole essere Un'autocelebrazione Ah no Come se Radu Dice se Non serve che mi ringraziate Per il secondo posto Dell'Inter in campionato Ma soprattutto Per dimostrare La sua intelligenza E il suo tatto Dove ha deciso Di andare a presentare Il suo libro Gallera In una Feltrinelli No È un mondo Do ristoro Dal Costanzo Show Neppure L'assessore Alla sanità lombarda Una delle persone Che peggio Ha gestito l'energia Covid Ha deciso Di presentare Il suo libro Qua Guardate Eccolo lì Nella casa di riposo Dove sono morte Per covid 32 persone Io dico Va bene Non saper contare Va bene Non capire Come funziona L'RT Va bene Non sapersi mettere La mascherina Ma proprio In una residenza Per gli anziani Beh In effetti È andato Nell'unico posto Dove era sicuro Che non lo menassero Sì ci hanno provato Comunque A destra Non sanno dove sono Anche a sinistra Non sono messi bene Pur di non stare col PD Renzi Ha sparpagliato i suoi Gli fa alleari Con chiunque Poveri ragazzi A Genova e Catanzaro Si presentano Con fratelli d'Italia A Palermo Con tutto il centrodestra E a Verona Appoggiano Tosi Addirittura L'ex Lega Li manda sempre più lontano Quelli di Renzi Sembrano studenti in Erasmus E come molti studenti In Erasmus Non studiano niente E provano solo A farsi trombare Insomma La nostra politica Manca di punti di riferimento Anche geografici E come sempre Quando si guarda all'estero Ci sembra che siano Tutti più bravi Diciamolo Questo weekend in particolare È stata celebrata Quella che forse È la donna più famosa E potente del mondo Maria De Filippi No no Non meno La regina Elisabetta Non così potente Che ha festeggiato I 70 anni di regno Noi l'abbiamo guardata Abbiamo invidiato tanto Gli presi Sì perché hanno Una regina così sicura di sé Che ha recitato Con l'orso Paddington E si è fatta chiamare Mami Dal principe caro Mami Pensa che bello Ma noi quando mai Capiterà Un presidente Che si farà chiamare Papi Aia Aia Ops Mi ho sbagliato Scusa Mi ho sbagliato Ho scappato Allora Luca e Paolo Grazie Vi ricordo che dal 9 giugno Sono al cinema Con il giorno più bello Facciamo il punto Ripartiamo dando il bentornato A Marco Travaglio Buonasera Direttore del Fatto Quotidiano Bentornato Ci mancava di vedere Sappiamo che il 21 giugno Ci sarà questo voto importante In Parlamento Chissà che posizione Prenderanno i tanti Politici parlamentari Partiamo però Dalle singole Posizioni ufficiali Il PD Di Enrico Letta E tu hai scritto Che il PD Si trova sempre Dalla parte dei più forti Ne sono la prova All'atlantismo Che vuol dire stare con gli americani Il garantismo Che vuol dire stare dalla parte Dei ladri ricchi Che possono pagarsi Gli avvocati Rivoltiamola Si sta dalla parte Di chi tutela la libertà In Ucraina Si sta dalla parte Il diritto Cosa c'è di non essere Di sinistra In questo? Beh la libertà L'ho vista poco tutelata Dal PD In questi giorni Non ho visto alcuna protesta Per le liste di proscrizione Forse non si stanno accorgendo Che per combattere I regimi illiberali Come quello russo Stiamo cercando Di avvicinarci a loro Di somigliare a loro E questo non va bene Andrebbe bloccato Allora diamo Così come non hanno protestato Per i tentativi Di chiudere carta bianca Anzi Saremo 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 arrivati Al tema delle liste Di proscrizione Abbiamo Ora arriveranno Ci raggiungeranno Di Battista Sallusti Minzolini Flash per chi non era Con le puntate precedenti Parliamo di Stiamo parlando Di L'ultima E quella Che ha pubblicato Il Corriere della Sera E che Questa Influencer Opinionisti Ecco i putiniani D'Italia Che non è una lista Di proscrizione Fatta da giornalisti Contro altri giornalisti Come aveva fatto Riotta Su Repubblica E altri Ma Riporta Brani Di quello Che viene definito Dal Corriere Materiale Raccolto Dai Servizi Segreti Per una Indagine In corso Al Copasir E quindi C'è un crisma Di ufficialità Che coinvolge Le istituzioni Per cui noi All'improvviso Domenica Abbiamo scoperto Che le nostre Istituzioni Stanno monitorando Dossierando Spiando Professori Giornalisti Giornalisti Reporter Influencer Blogger Per le loro idee Perché in questo articolo Non c'è un reato Non c'è un fatto Illecito C'è soltanto il fatto Che alcuni Danno una narrazione Della guerra Diversa Io poi Magari non la condivido Ma non mi interessa E sono critici Contro il governo Draghi E questo è particolarmente Significativo Perché se i servizi Che dipendono Dal governo Fanno dossieraggio Sugli oppositori Del governo E c'è un cortocircuito Che ci avvicina All'autoritarismo Riarriviamo Alle liste Ma devo portarti Prima in politica Solo ti ricordo Sarà un elemento Però su cui riflettere Che Franco Gabrielli Che è il sottosegretario Delegato dal governo Al controllo dei servizi Ha detto Cartello 19 Che l'intelligenza italiana Non ha mai stilato Alcuna lista di politici Giornalisti Opinionisti Commentatori Ne svolta attività Di dossieraggio E questo aumenta Però in qualche misura Il mistero Perché poi Quell'articolo Di due autorevoli colleghe In qualche misura Porta un testo Che da qualche parte Deve essere uscito Ma ci arriviamo Marco Apre e chiude virgolette Rispetto a quel record Apre e chiude Un dato Qualcosa c'è Lo virgoletta Tutto sta a capire Chi l'ha fatto E a chi l'ha consegnato Dunque Chi tradisce Prima del voto Abbiamo detto Letta Rispetto alla sinistra Matteo Renzi Tradisce la sinistra A braccia la destra Ma non lo so A me viene La labirintite A seguirlo Non ho perso Il conto Delle volte In cui L'abbiamo ritrovato Di qua Di là Sarebbe Una misura Igenica Per la politica Creare Una No Renzi Zone Cioè Un accordo Fra tutti i partiti A non dargli Dei posti sicuri Per le prossime elezioni Così finalmente Si potrà dedicare Alla sua attività Di conferenziere A gettone In Arabia Saudita E in altri paradisi Del rinascimento Dal tuo punto di vista Saremo tutti un po' più Tranquini Dal tuo punto di vista Chi è che romperà Questa No No fly zone La destra O la sinistra Da chi è più appetito Credo che A destra Non si fidino Perché l'hanno visto Tradire tutti Invece credo Che la sindrome Di Stoccolma Che pervade Letta Lo stia molto Tentando Noi domani Sul fatto Raccontiamo Che Letta È tentato Di regalare Alcuni collegi Sicuri A Renzi Ad alcuni Suoi fedelissimi O fedelissime Quindi auguri Allora Berlusconi Silvio Berlusconi C'è un Guarda Te lo faccio vedere Tall show In russa Solo Vyov L'abbiamo imparato A conoscere tutti Parla di Silvio Berlusconi Guarda Mi è infatti Udililo Stati a Berlusconi Perché È assolutamente Prima come Il geniale Presidente di Bieg È un soldato È un soldato È un soldato Berlusconi È un soldato Per un soldato Per un soldato Per un soldato E inizialmente Avcanzi Dice E давайте Adcagemo Ad Pravo Vieto Vnutri E E E E E E No Davate Peridiamo Se Autoritarne Forme Pravления Per un soldato È evidente È evidente Che gliel'e Che gliel'e Ricorda Per un soldato Per un soldato Per un soldato Per un soldato Che non si è Non si è mai Dimostrato Governo Anzi È un partito Per un soldato Per un soldato Le reati Sia così malmessa Degli incontri Tra governo E chi Sono stati Presso I servizi Degli incontri La settimana scorsa Con esponenti Di alcuni Ministeri Dai quali Poi È nato Il report Che alla fine Della settimana È arrivato Il Corriere E ieri È arrivato Al Copasir Grazie Marco Travaglio E io ancora mi domando A che titolo Il Copasir Maneggia questa roba Grazie Marco Travaglio Benvenuto Alessandro Di Battista Buonasera Buonasera Benvenuto anche Alessandro Sallusti Direttore di Libero Emanuele Trevi Scrittore Premio strega Con il suo Due vite Bruno Tabacci Buonasera Sottosegretario Alla presidenza Nel consiglio Sempre con noi Ginevra Bumpiani Scrittrice Editrice Saggista In libreria Con la penultima Illusione Collegato Augusto Minzolini Direttore del giornale Buonasera Minzolini Allora Cartello 11 Alessandro Di Battista Presunta rete Di propagandisti Filorussi In Italia Che sarebbe Attenzionata Per utilizzare Il termine Tecnico Dai servizi Segreti Ci sono dei nomi Li abbiamo già sentiti Ne abbiamo già parlato Che idea Si è fatto Di questa vicenda Che è una vicenda indegna Che in un paese civile I giornalisti Dovrebbero indignarsi Per primi Perché evidentemente Qua nel nostro paese Sta diventando Un reato Pensare Avere delle idee E delle opinioni Se poi c'è qualcuno Di quei personaggi Che ha preso soldi Da Mosca Evidentemente Dovrebbe essere Cacciato Dall'ordine Giornalisti Anche se nel nostro paese Personaggi Che hanno preso soldi Dalla CIA In passato Non sono stati cacciati Dall'ordine Mi auguro Mi auguro Mi auguro che il direttore Del Corriere della Sera Luciano Fontana Di ha delle spiegazioni In primis Ai suoi lettori Allora Diceva Sallusti No dicevo Il contenuto Lo condivido C'è di buono Che siamo in Italia E quindi è più Una farsa Che una tragedia Perché non c'era La visione di servizi segreti Per capire Chi sono i filo Putin Che non è reato A essere filo Putin Però Di Battista Secondo me Non ha il diritto Di dire questo Perché quando lui Comandava nei 5 Stelle Tutte le settimane I 5 Stelle Facevano una lista Di proscrizione Dei giornalisti Da mettere all'indice Io ero sempre Io ero sempre Nei primi dieci Per cui Lezioni Di libertà Di opinione Da Di Battista Anche no Perché io sono stato Per mesi Nella lista di proscrizione Dei 5 Stelle Per favore Alessandro Di Battista Allora innanzitutto Quando il Movimento 5 Stelle Come dice Sallusti Pubblicava sul blog Quindi un Diciamo un giornale Privato online Semplicemente una parte Delle menzogne Di alcuni giornalisti Certo non erano coinvolti I servizi segreti Poi dato che Sallusti Dice che il contenuto Lo condivide Vorrei chiedere Perché non ha Il coraggio Le palle Visto che utilizza spesso De linguaggi coloriti Di definire Colui che dice L'Europa si deve mettere Tutta insieme Cercando di far accogliere Dagli Ucraini Quelle che sono Le domande di Putin Perché non si scandalizza con Berlusconi Che ha pronunciato queste parole Paura Non ho paura E non ho condiviso Quello che ha detto Berlusconi Non ho paura Sei tu che hai paura Ma allora definisci lo putiniano d'Italia Prendi le distanze Sei tu che hai paura Tutti i forti con i deboli I deboli con i forti Ma ti rendi conto che tu stai Zittendo un giornalista Tu non sei un giornalista Paura Quindi sei lì a rispondere alle domande Non a farle Paura Allora Io di te proprio Non ho paura Ma zero Tu mi fai ridere Siete persone che hanno dimostrato Tutte il proprio coraggio In diverse situazioni C'è il direttore del giornale Augusto Minzolini Che idea si è fatto? No, lui si è fatto l'idea L'ho anche scritto oggi Che secondo me Ecco La caccia ai putiniani O diciamo Le liste di proscrizione Sono Menate Non saprei come definire Perché non credo Che siano una cosa seria Sotto certi aspetti Quello che mi preoccupa E che su temi così tragici Di cui poi ogni sera Vediamo nei telegiornali Le immagini drammatiche Cioè Finire poi In questa specie di Di atribe Da una parte E dall'altra Credo che non sia Giustificato Cioè si rischia di riportare Il dibattito Un po' A quello che ricordava Un po' Il dibattito Un po' ideologico Che c'era sui vaccini Io credo che Da questo punto di vista Voi sapete bene Sono sempre stato abbastanza chiaro Sono per appoggiare L'Ucraina Sono per dare le armi Che sono una triste Doverosa necessità Penso che ogni tipo di mediazione Debbia passare Attraverso un sì Un ok Da parte di Chieb Ma a parte ciò È chiaro che Se tu usi L'arma del silenzio Cioè quindi Riediti O riporti Diciamo All'interno del dibattito Dei meccanismi Che sono propri Di uno stato autoritario Beh allora Abbiamo già perso Il punto è esattamente Questo Dibattista Nel senso Noi siamo diversi da loro Perché abbiamo Un altro modo Diciamo Se ci hanno già cambiato Allora dobbiamo guardarsi Un po' nello specchio E forse abbiamo Allora Dibattista Dopo arriveremo anche al tema Di quello che ha scritto il giornale Cioè dell'ipotetica nascita Di un partito Filorusso Ma Vi terrei su questo tema Perché Guardate la precisazione Del Copasir Cartello 16 Il presidente del Copasir Adolfo Urso Oggi Ha dato un'intervista Al giornale Radio Rai Ha detto Il comitato parlamentare Ha attivato Una indagine conoscitiva Non abbiamo sul tavolo Un elenco di nomi Ma abbiamo delle informative Sull'attività Di questa macchina Propagandistica Questa È una smentita Dibattista Io non ne ho francamente idea Perché concordo con Minzolini Poi mi domando Augusto Se tu sei lo stesso Minzolini Che fa questo titolo Che mi riguarda Nasce Forza Russia Con Dibattista leader Sei lo stesso che ora dice Sei lo stesso che ora dice Che queste sono farze O sei lo stesso direttore Che pubblica questa prima pagina Comunque Calmi 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 Faccevi le liste di proscrizione E vieni qui a fare i dossier Aspetta Aspetta Non capire Parliamo dello Vergogno Allora Alessandro Renna Andiamo su di me Calmiamo un attimo Un attimo Alessandro I Battista Dunque Tutte queste cose Tra l'altro Avevamo i cartelli Quindi non serve La dimostrazione Ma ci arriviamo Arriviamo alla conseguenza politica Della macchina eventualmente propagandistica Ma Alessandro I Battista Il dubbio che mi viene Poi ora vorrei sentire Trevi, Bonpiani Cioè La cultura La narrazione E il governo Il dubbio che mi viene È che la smentita di Urso Non sia una gran smentita La rivediamo un attimo Un'indagine conoscitiva Non abbiamo sul tavolo Un elenco di nomi Il cartello 16 Ma abbiamo delle informative Sull'attività di questa macchina propagandistica Che vuol dire Che i servizi segreti Indagano sui giornalisti Di Battista Trevi, Bonpiani Sì Probabilmente significa questo Ed è una vergogna Da Stato non liberale Da democrazia non compiuta E vorrei dirle Floris Che qui anche la litania Del noi Il primo mondo giusto Mentre gli altri Che trattano male i giornali E i giornalisti Deve finire Perché esistono giornalisti in occidente In carcere come Assange Giornalisti in Palestina Che vengono freddati Perché denunciano l'apartheid Questa roba deve finire In Italia In questo concordo con Minzolini Diventa farsa Io vorrei sapere Se questi servizi segreti Sono stati ingaggiati Se l'iniziativa è stata politica Di indagare su parlamentari Opinionisti Giornalisti E intellettuali vari Perché questa è la cosa drammatica Attenzione Arriveremo alla risposta Io da cittadino Mi indigno ancora di più Arriveremo alla risposta I tabacci Ma prima vorrei sapere Da Trevi e da Bonpiani Che ne pensano Diciamo da persone Adesso non so come Ginevra Possa interpretare Però è veramente una frase Un pochino Quella che ci avete esposto Nella grafica Dice Noi non facciamo indagini Però abbiamo sul tavolo Delle indagini Mi sembra Delle informative Sono termini proprio Perché le indagini Riguardano delle persone Evidentemente Da un punto di vista Devo dire una cosa Che questo può essere Il centro Di un dibattito reale Adesso non perché Collaboro al Corriere della Sera Lo direi di qualunque giornale Ma la pagina del Corriere Mi sembra innocente Rispetto a questo Che ammonte Perché dice Stanno facendo questo Stanno facendo questo Porta una notizia Questo veramente Mi sembra Che non sia Nemmeno In termini Polemici Anche perché Se vediamo Nella prima quadra Che avete mandato C'è una squadra Quella squadra Sarebbe Nessuna mente La metterebbe A stipendio insieme Perché sono persone Troppo Sarebbe del tutto Inefficace E non Non ha senso Sono tutte teste Anarchiche Se succede una cosa Evidentemente Poi il giornale La riflette E questa frase Mostrata così Che fa un po' Impressione Una delle tante Esempi di politichese Arriveremo alla politica Rimaniamo sui segni Allora io ho semplicemente letto L'articolo del Corriere della Sera E l'intervista a questa Dieni se non sbaglio La vicepresidente del Vicepresidente del Copa Sir E mi hanno colpito Alcune cose che ha detto Due in particolare La prima L'abbinamento solito Tra Novax E putiniani Che io vorrei capire Quale può essere L'abbinamento Cioè Quale può essere La coincidenza Cioè Uno che non vuole vaccinarsi E gli piace Putin Comunque La spiegazione Uno che non ama Il sistema Si oppone al sistema In ogni occasione Ma sa come lo dice Si ricorda come lo dice lei Lei dice I manipolabili E cioè I Novax E i putiniani I manipolabili Cioè Quelli che non credono All'informazione ufficiale Ma siamo matti I manipolabili Sono quelli che credono All'informazione ufficiale Salvesti su questo Prego E poi arriviamo a tabaccio Premettetti un'altra cosa Che mi pare molto importante Ho usato la parola Disinformazione Su questa parola Disinformazione Io mi interrogavo Qualche giorno Anzi Due giorni fa Perché due giorni fa A Washington Si è chiuso Il meeting Segreto Del club Bilderberg Ma non è segreto Lo sapevano tutti Beh è segreto Perché non dicono Cosa dicono Sanno Sanno che Quello neanche al premio strega Ci sta No 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 Si Ci stanno I convidati cosa Sono 68 anni Credo Che Bilderberg Fa degli incontri Di cui Ci sono due pagine Sul domani Oggi Non possono raccontare Non possono entrare Non possono raccontare Quanti diranno Comunque Il punto nove Del Del Panel È Disinformazione E io mi chiedevo Ma cosa intenderanno A Bilderberg Disinformazione E adesso lo sappiamo Disinformazione È quella che fa Chi non rispetta L'informazione Ufficiale Allora Siamo sempre sul campo Informazione Quindi chiederei a San Lussi Un intervento E poi arriviamo Alla politica Se è mandante Mi sembra Un ragionamento Molto complicato E molto ingiusto Il suo Perché sarebbe Come dire Che tutta L'informazione Certificata Quotidiani Trasmissioni Televisive Sono dei truffatori Che obbediscono Agli ordini Di qualcuno Mentre l'informazione Libera I social Siano Il vangelo In realtà Esistono Le opinioni Per cui io trovo Legittimo Che un giornale Pensa che Putin Sia Il male assoluto E che l'America Sia il bene assoluto Fa parte Delle libertà Di opinioni Se lei lo vuole Lo compra Se non lo vuole Non lo compra Così come Nei social È pieno Di controinformazioni Di falsa informazione Quindi Nella divisione Non è Tra il certificato E il non certificato È che ognuno Tra il credibile E non credibile Aspettate Ginevra Bompiani Torniamo a tutti Ma c'è Bruno Tabacci Sottosegretario Alla presidenza Il consiglio Qual era la domanda Che ponevi al governo Alessandro Di Battista Risponderà Tabacci Prego Di Battista Mi chiedevo E chiedo Al sottosegretario Tabacci Se l'iniziativa Appunto Di effettuare Dossieraggio O come l'avete chiamato Non mi ricordo Poi sono un po' Queste supercazzo Le appunto Delle Delle investigazioni Su determinate persone Che non sono d'accordo Con inviare le armi a Kiev Non pensano Che l'Europa Si stia comportando In maniera giusta Per risolvere il conflitto O ritengono Che questa guerra Infame Che io ho sempre condannato Sia partita Anche con un colpo di Stato Nel 2014 Ecco Mi domando Se l'iniziativa Sia stata politica Ovvero Se vi è un governo Che ha chiesto Ai servizi segreti Di indagare su giornalisti Un parlamentare Opinionista E intellettuale Tabacci Il governo come noto Ha la fiducia del Parlamento Ma L'organismo di cui si parla È presceduto Da un collega Senatore Che è un esponente di punta Del maggior gruppo Di opposizione Per cui Immaginare che il governo Possa essere dentro Una partita di questa natura È proprio Un parlare d'altro Ho detto bene O ho detto qualche cosa Che non va bene Quindi Il governo Non c'entra nulla E d'altro canto La storia Ha risposto Ne prendo atto Grazie Non vedo che cosa Poteva fare Per quel che riguarda Poi la storia personale Io Sono nato Dentro Immerso Dentro La vita politica In un paese democratico E certamente Quelli che contestano La linea del governo Non corrono Il rischio Di quelli che In Russia Devono negare Che si tratti di guerra Che è un'operazione speciale Perché chi dice guerra Finisce molto male Qui da noi Non succede mica nulla Sono liberi di dire Tutto quello che pensano Io tra l'altro Ho sempre fatto politica Avendo L'avventura di leggere Tanti giornali Molti dei quali Erano opinioni Molto diverse Dalle mie Ma non mi sono mai Per questo adontato Io Penso poi Di poter aggiungere Che essendo nato In un piccolo paese In cui i comunisti Erano in maggioranza Erano storicamente Amici Della Russia Anche quando c'era Stalin Ma al bar Stavamo tutti uguali Avevamo ognuno Rispetto degli altri Era un'isola Se mi faccio impressionare Di quello che dice Di Battista Sulla questione Della guerra L'ha detto fin dall'inizio Ha detto delle cose Che io non condividevo E che ho trovato Profondamente sbagliate Ma ci arriviamo E se non ci fosse stata La resistenza ucraina Non saremmo qui a discutere Della fine della guerra Perché sono passati 103 giorni Augusto Minzolini Cartello 30 Ecco il titolo Del giornale di ieri Sui lavori in corso Per un nuovo soggetto Politico pacifista Nasce Forza Russia Da Petrocelli A Santoro Dorsini A Di Battista Allora Qual è la notizia E poi Sentiamo Alessandro Di Battista Qual è il problema Permettimi una cosa Rispetto Visto che non mi hai chiesto Sulla vicenda A me una cosa Che mi colpisce È quanto parla Il Presidente Del Copasir Perché ha fatto Un'intervista Oggi Ha fatto Diciamo Un comunicato E alla fine È uscito fuori Quella dichiarazione In cui non si capisce Se per caso Esistono o meno Queste dossier Io probabilmente Su queste vicende qui Ecco E torniamo Diciamo Alla serietà Parlerei molto meno A parte ciò Rispetto al discorso Invece Diciamo Che si faceva prima Cioè Quella del titolo Ma quella è una suggestione È una suggestione Che è anche Una provocazione Dire C'è qualcuno All'interno Diciamo Di questo dibattito Che punta Ad investire Politicamente Su questi temi E infatti Se tu vedi È messo in quella maniera Quando parliamo Di forza Russia C'è un minimo Di ironia Io credo Che ci sia Poi qualcuno Che può essere tentato In una fase Come questa In cui abbiamo Una certa Diciamo Rispetto agli schieramenti Che conosciamo C'è un po' Di disgregazione Può esserci anche L'idea Che paghi Politicamente Assumere Posizioni Di questo tipo Di battista Non le giudico Però posso anche Raccontarle Nasce un'area Sostanzialmente Battezzata Forza Russia In maniera Ironica Qual è il problema Di Battista? No no Qua c'è scritto Nasce Forza Russia I putiniani D'Italia Lavorano A un movimento Pacificista Se poi Minzolini Che è tornato Simpatico Definisce Una balla Una suggestione Dirò In giro Alle persone Che mi hanno chiesto Ma quindi Stai fondando Un movimento Filo Putin Dirò Tranquilli Minzolini Ha smentito A se stesso Si tratta Di una suggestione Ma io non ho Fincuito Capite perché Minzolini Poi Le persone Con i giornali Che pubblicate Ci incartano I totani Assumetevi Delle responsabilità Scusami un attimo Ma io C'è incarto Anche rispetto A tutte le cose Che dici Io ti ho detto Esiste uno spazio Per un partito Del genere È una Provocazione C'è il senso Politicamente Anche voi Siete stati Una provocazione All'inizio Perché c'era Diciamo Il vostro partito È nato Su un baffa E lo dico Fino tutto Quindi anche quella lì Era una suggestione Che poi si è trasformata In una realtà Tu immagina Che c'è Un'area Che rispetto A una posizione Che c'è nel paese Perché ovviamente Dà fastidio Diciamo L'idea Diciamo di tutto Quello che Ti crea Dal punto di vista Dei fastidi Dalla guerra C'è chi pensa Più che altro A vedere La benzina Che sale E via dicendo E quindi è portato Basta che tu lo vedi Nel dibattito Se vai Si parlava prima di bar Vai in un bar Tu ti accorgi Che ci sono dibattiti Di questo tipo E qualcuno può anche Immaginare Di utilizzarlo E io penso Che non sarai te O qualcun altro Ma nel dibattito politico Se questa guerra Andrà avanti Delle prossime elezioni Ci sarà questa posizione Allora Cartello numero 10 Alessandro Sallustri La Russia contro media E politici italiani Allora cosa ha detto Il ministro degli esteri Ha detto C'è un comportamento Servile miope Che dimostra La moralità Di alcuni politici E dei medi italiani Una grande campagna In Italia contro La cultura lussa I suoi rappresentanti Una linea dominante Nei mass media italiani Provoca amarezza E rammarico Che giudizio dai Tu sei stato protagonista Di uno scontro duro Nella trasmissione Domenica di Massimo Giletti Con i rappresentanti Della propaganda russa Che impressione hai Dello stesso problema Visto dall'altra parte Loro dicono Che siamo noi Quelli che hanno la testa Nella propaganda Sì Loro dicono Che siamo noi Però loro possono Venire qui A dircelo A dirlo Attraverso di voi Attraverso anche Questa rete televisiva Milioni di italiani I nostri giornali Danno ampio risalto Alle opinioni Dell'ambasciatore russo In Russia Noi non possiamo andare A dire La nostra opinione Quindi E' una partita truccata E guarda che io Andrei in Russia A piedi A cavallo In bicicletta A intervistare Putin O a confrontarmi Per ore Se questo fosse A se fosse possibile Poi il problema E' tornare Dalla più Il problema è tornare No ma soprattutto Quello che io Ho contestato L'altra sera Non era Dare voce A qualcuno Che la pensa Diversamente Da noi Era dare Per due ore voce Alla propaganda Che è cosa diversa Qual è la differenza Di Battista Poi torniamo da lei Finisco velocissimo La propaganda È la negazione Della libertà D'informazione Perché la propaganda È a pagamento E non segue Nessuna logica Di un dibattito La propaganda È propaganda Di Battista Trevi Prego Di Battista Su quest'ultima Affermazione Sallusti Sono del tutto D'accordo Noto soltanto Che Al netto Dei trattamenti Diversi Che poi ripeto A poche miglia Da Buckingham Palace Dove veniva celebrata La regina Elisabetta Sta marcendo In carcere Un giornalista occidentale Nel libero occidente Perché ha svelato Le porcate Dei governi occidentali Si chiama Assange Tolta questa questione Che nessuno Osa ricordare Dico che esiste La propaganda Per l'amor di Dio In Russia Basti guardare Come è stato trattato Il governo Draghi Nei primi mesi Dopo essere nato Come il governo Di Salvatore Di nuovi Messia Di nuovi Cerci Esiste anche La propaganda Non so se sia Prezzolata Senz'altro È pavida Nel nostro paese E la propaganda Si scontra Con la realtà Basti chiedere Alle persone Come oggi vivono Anzi sopravvivono Se riescono a lavorare Come sono i salari Che riforma C'è della giustizia Aspettate Aspettate a ridere Massa all'ultima Soprattutto al governo Passando per Emanuele Emanuele Trevi C'è un rapporto Tra la propaganda Così come è narrata Nel nostro immaginario La propaganda russa E la volontà E la volontà Di nascondere Ho visto stringersi E non in tutto Come noi Su che cosa Mi perdoni Sul fatto Che fosse importante Difendere Questa grande Battaglia antifascista Che il popolo Ucraino Sta sostenendo Col nostro aiuto Che senza sé E senza ma Delle persone Come noi Ritenevano Che fosse una posizione In un'Italia E che è confortata Dalle prese di posizioni Di Mattarella Del governo stesso Invece abbiamo visto Erodere Sottopede Quindi prendiamo atto Di un'opinione pubblica Più dubitante Mi chiedo Tutto è legittimo Qual è però La finalità Di questa propaganda È infilare Nella testa Gli italiani Che Putin È una brava persona No Perché sarebbe impossibile Questo Sotto tutto Gli italiani Non sono Questo è un criminale Fascista Genocida È una cosa Che noi Perché viviamo Nella libertà Come dice il direttore Salusi Non possiamo Che non arrivare là Non viviamo Come loro E allora Qual è la finalità Di questa propaganda La finalità È creare una cosa Che invece Perché questa è la propaganda Geniale E che invece Possa essere Diciamo Accettata Da molti buonsensi Anche opposto Cioè L'idea Che la guerra È un male Quindi c'è un'equivalenza Tra i contendenti Questo è l'orrore Che io Per esempio Nel mio Allora Modestamente Cerco di Sentiamo un attimo Quella cosa Se mi permetti Che anche le persone È una macchia Che va anche Se c'è un'iniziativa Lodevole Universalmente In tutto il ciclo Delle cose che si fanno In Italia È la marcia Perugia-Sisi Il logo Il logo La marcia Perugia-Sisi Quest'anno È stata Un'infamia C'era una signora Che proteggeva Un bambino Con due pallottole Perfettamente equivalenti Che arrivavano Dalle due parti Il messaggio Quella è la propaganda Che vince Ginevra Il fine della propaganda No Non credo Prima di tutto La propaganda La fa chi ha il potere E le persone Di cui stiamo parlando Non hanno nessun potere E quindi Non possono fare propaganda La propaganda Invece O diciamo È un po' Il pensiero diffuso E Autorizzato E confermato Dalla stampa E dai media Non c'è solo C'è in Italia E non c'è solo Da ora Ma c'è da alcuni anni Diciamo Tre anni Prima cosa Seconda cosa No Non si pensa affatto Che se uno Manda le armi A una A una guerra È uguale A quello Che ha fatto la guerra Semplicemente Se mandi le armi A quella guerra Sostieni la guerra E questo è un fatto Tabacci Sono cose Sulle quali Abbiamo discusso Fin dall'inizio Io penso che L'invio delle armi Da parte dell'Italia Segue un percorso europeo È stato deciso Dal Parlamento Italiano Sulla base Di un principio Che le armi Di offesa Sono quelle Che sono state Utilizzate dai russi Che hanno invaso L'Ucraina Le armi di difesa Sono quelle Di resistenti Ucraini E aggiungo Un concetto Che ho già espresso Altre volte Non sarebbe nata La Repubblica Italiana Se non avessero avuti I resistenti italiani Le armi Degli angloamericani Facciamocene una ragione Stiamo buoni Di Battista Io non intendo Partecipare Alla propaganda Perché non sono esperto Come l'ex collega Di Battista Che è molto più bravo Di me Nel farla Quindi di questo Ne prendo atto Però Mi preferisco essere Un uomo di pace Anche nei ragionamenti Volevo Una cosa velocissima Una cosa velocissima La frecciatina A Di Battista Gli facciamo replicare dopo Volevo sottoporre Volevo fare a lei Una domanda molto semplice Che tra l'altro Una frase non mia Credo del sociologo Galimberti Che ha riassunto così Se disarma la Russia Finisce la guerra Se disarma l'Ucraina Finisce l'Ucraina Allora Capisce che Lei deve scegliere Deve scegliere Allora Non spiegare Scegliere Nessuno può disarmare la Russia E quindi La Russia può armarsi Quanto le serve E quindi Può fare quello che vuole Perché è un Tanto tutto Un grande esercito Una grande potenza Più armi tu mandi Contro la Russia E più la Russia Manderà armi E quindi Quello che è successo E che la guerra Ma quindi 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 E giusto Quindi Quindi E me lo faccia dire Addio Ucraina Ma me lo faccia dire quindi Addio Ucraina Ma me lo faccia dire quindi Addio Ucraina E quello che sta succedendo Quello che sta succedendo Perché L'America Manda dei missili Che però Non possono toccare la Russia Quindi vuol dire Che quando cadono Cadono in Ucraina O no Sono i missili americani Che cadono in Ucraina Allora aspettate Perché ora Sulle strategie Arriveremo nel prossimo blocco C'è una risposta C'è una risposta che deve dare Di Battista Io vorrei rispondere a Fallusti Non ha risposto No Quindi Quindi non ho risposto Io penso Che se avessero trattato Trattato Fatto una vera trattativa All'inizio della guerra Questa trattativa Sarebbe stata Identica A quella fatta ora O fatta tra tre mesi Le condizioni sono Di Battista Le è dovuta la replica A Bruno Tabacci Che la considera Esperto di propaganda Prego Poi vi faccio vedere Una cosa Che ci lancia Sul prossimo blocco Prego Per me questa è una vergogna Che ha detto Tabacci Perché Parlare pacatamente Come fa lui Non significa Non parlare con violenza Perché definire Il pensiero altrui Propagandistico Soltanto perché Si ha una visione diversa E delle idee diverse Da Tabacci Dal governo Draghi Dal governo dell'assembramento È un'accusa Violentemente Ovviamente verbale Violenta Qui Tabacci State dando Dei propagandisti Alla maggioranza Di cittadini italiani Anche al Papa Anche a Kissinger A tutti quelli Che reputano Che abbia fallito La vostra strategia Ci avete detto Che più anni In Dio A Kiev Prima finiva il conflitto Il conflitto Non solo Non sta finendo I russi avanzano L'Italia e l'Europa Si impoveriscono E l'Ucraina Sparisce Esattamente come ha detto Pocanzi La signora Con la quale Sono piuttosto d'accordo Si dica solo un appetizer Perché tanto lei rimane con noi Anche dopo la pubblicità Prego Ho già concluso Era solo per dire Che La propaganda In cui abilissimo Di Battista Ho potuto registrarla Nell'arco Di un'intera legislatura Che ho fatto con lui La comunicazione Il modo come lui Fa queste cose È chiaramente Propagandistico Dopodiché chiedo scusa Se lui si sente offeso Io non mi sono mai Sentito offeso Delle cose Che lui ha detto Anche se non le ho condivise Fin dall'inizio Perché la sua idea Era che l'Ucraina Si dovesse suicidare Guardate Segnali Segnali di pace Vi faccio vedere Cosa ha detto L'ambasciatore americano A Mosca In un'intervista Alla stampa russa Guardate L'RVM 106 Per raccogliere E riparare Quello che è stato Frantumato Dagli eventi di quest'anno Ci vorranno Tanti sforzi Mi chiedo sempre Da dove cominciare Intanto Le nostre ambasciate A Mosca e Washington Restano aperte Anche se ora Abbiamo pochi temi Da discutere I nostri cosmonauti Ed astronauti Le nostre agenzie spaziali Sono interdipendenti Ci sono state telefonate Tra i ministri Della difesa E tra i capi Degli stati maggiori E si tratta Di un bene Dobbiamo mantenere La capacità Di parlare L'uno con l'altro C'è poco altro Da aggiungere a questo Piccola pausa Allora Cerchiamo di trovare Una via d'uscita Dalla situazione Che abbiamo descritto Per tutta la serata Con noi è Bruno Tabacci Sottosegretario La presidenza del Consiglio È rimasto con noi Beatrice Lorenzin Del PD Già Ministro della Salute E abbiamo La professoressa Simona Colarizzi Storica della Sapienza Poi passiamo a Angelica Donati Presidente dei Giovani Costruttori Ance Fulvio Grimaldi Giornalista Lavorato per Rai E BBC E poi abbiamo Alan Friedman Giornalista In libreria Con il prezzo Del futuro Abbiamo Luigi Scordamaglia Consigliere delegato In filiera Italia Milena Luciani Che imprenditrice Della pesca Abbiamo collegato Angelo Dorsi Che insegna filosofia morale L'Università di Torino E lascio per ultimo Alberto Fazzolo Scrittore Ha vissuto due anni In Donbass Il suo nome Tra i presunti Propagandisti Filoputin Che sarebbero Attenzionati Dai servizi Grazie allo scoop Del Corriere della Sera Allora Io le faccio vedere Una cosa Cartello 15 Cosa dice Medvedev Ha spiegato Perché odia L'Occidente Vediamo cosa ha scritto Su Telegram Li odio Sono dei bastardi E degenerati Vogliono la nostra morte Quella della Russia Finché sono vivo Farò di tutto Per farli sparire Vede Questa è una dichiarazione Del genere Del terrorismo islamico Non è neanche più Una dichiarazione Legata A delle motivazioni Di guerra Non è neanche più Legata È una motivazione Di un odio senza fine Come si fa A non considerare Questo aspetto Di questa guerra Indubbiamente Un odio smisurato Un odio ingiustificabile Ma che è di un privato cittadino Fortunatamente La diplomazia Il primo ministro russo È stato È stato Beh vabbè Sì sì Però comunque Non ha più Quello di rarito È il portavoce E la scusa Per cui Putin Può stare Per ancora Cinque anni Al potere in Russia Sì sì Indubbiamente Però comunque È un qualcosa Che va inserito All'interno Di un più ampio Conflitto Che riguarda Tutta una serie Di sfaccettature Tra cui anche Un presunto Scontro di civiltà Uno scontro di civiltà Che porta A delle esasperazioni Che si vedono Tanto sul campo di battaglia L'abbiamo visto In questi giorni Come ad esempio Il monastero Che è stato dato Alle fiamme E anche Nei rapporti diplomatici Che arrivano A questo livello Di esacerbazione Che sicuramente Non aiutano Il dibattito Ma che sono Da considerare Per quello che sono Cioè Degli eccessi Di qualcuno Abbiamo Kirill L'RVM Quando si parla Di scontro di civiltà Allora Guardate Cosa ha detto La settimana scorsa Il patriarca Kirill SIL Che действуют Proti Interessi Con superiorità Come se L'Occidente Fosse in totale Decadenza E sono felici Se c'è la decadenza Dell'Occidente Non condividono I valori Dell'Occidente E I valori Dell'Occidente Per loro Sono Una società Edonistica Peccaminosa Senza slancio vitale Guardi che sono Nella storia Lo scontro Tra le potenze Nel scontro Per esempio Dell'itlerismo Contro le democrazie Occidentali Si basa molto Su questo tipo Di dialettica Le potenze Democratiche Erano delle potenze Con appunto Le culle vuote Completamente prive Di slancio vitale Che non potevano Avere futuro La decadenza Sulvio Grimaldi Le dico perché Siamo in questa parte Di dibattito Perché se c'è dietro Qualcosa Che non sia Un interesse Soddisfabile La cosa Può Diventare molto lunga E avremo delle conseguenze Sull'economia Di cui parleremo Prego No io stavo dicendo Che per quanto riguarda L'uscita di Medvedev Evidentemente È stato Uno sfogo Da esasperazione Per una mole Di diffamazione Universale Cosmica Che si rovescia Contro la Russia In tutti i suoi aspetti C'è l'odio Che viene Noi abbiamo un ministro Degli esteri Floris Che ha dato Dell'animale Da bastonare Al presidente Di un altro paese Abbiamo quell'altro Che ha dato Del macellaio Al presidente Dall'altro paese Ci meravigliamo Soltanto di queste Esuberanze Verbali Da quella parte lì E dalla parte nostra Che sono Veramente Abbiette Hanno raggiunto Il fondo Della possibilità Di conversare Umanamente Correttamente Con l'antagonista Ero pronto A dargli torto Ma è vero Il ministro degli esteri Ha detto È un animale Più Scusi Io però Vorrei dire una cosa Questa persona Che ha parlato Non è un privato cittadino È uno degli uomini Più potenti Della Russia E vicinissimo A Putin Nella sua frase Per questo Ne stiamo parlando Non è semplicemente Una frase di propaganda Su una persona Su una persona Ma riguarda L'Occidente E lui Trasmette Una sensazione Ai suoi cittadini Di odio Noi odiamo loro Ma quando mai Mettiamoci nei panni Della gente comune In Italia In Europa Come abbiamo percepito I russi Noi in questi decenni Tra l'altro Non abbiamo neanche Guardato in mass media Con pochissima attenzione Le privazioni Di libertà Di democrazia Che venivano quotidianamente In Russia Nei confronti Di ogni tipo Di minoranza O dei giornalisti Più in media Dei politici Più in media Dei politici Perché diciamo I politici Si sono accompagnati All'immagine di Putin Come di un decisionista Concreto Non è stato Un elemento Dell'agenda Diciamo Di nessuno Delle trasmissioni Dei giornali Non era top agenda Che anche il cittadino comune La signora Maria Se ne accorgeva Ma invece La signora Maria Berlusconi diceva Che era uno in gamba Salvini diceva Che era uno Che insomma bisogna La Meloni Diceva Il portavoce Della cristianità Nell'immaginario Nell'immaginario occidentale I russi Erano Sono Erano e sono Degli amici Elementi Con cui commerciare Persone Che venivano in vacanza Nel nostro paese Non il nemico E ci accorgiamo Ci accorgiamo Dalle affermazioni fatte In questo periodo Da Kirill Poi anche dal loro Capo spirituale Che invece Ci percepiscono Come il nemico Qualcosa da odiare Questo fa molta paura Io le dico Io questa cosa La voglio rigettare Perché nel frattempo Invece Le diplomazie Lavorano E lavorano Per raggiungere Una nuova fase Però non si può negare Mi scusi Aspetti Grimaldi Sentiamo Dorsi Parliamo tu Non si può negare Quello che abbiamo ascoltato Cioè non può essere ridotto Aspettate Ma come fai Al professor Dorsi Abbassiamo lo studio Dorsi Vai Alessandro Renna Prego professore Grazie Grazie In realtà anche qui Stiamo assistendo Appunto di nuovo Un esercizio di propaganda Cioè nel momento in cui Noi diciamo Che la loro è propaganda La nostra informazione Stiamo di nuovo Riproponendo Questa contrapposizione Il bene contro il male La democrazia contro L'autocrazia Cioè questo è il punto Decisivo Dobbiamo smettere Con questo atteggiamento Assolutamente Noi in realtà Ci sentiamo A nostra volta Superiori Senza contare Che le posizioni Che le posizioni espresse Da Kirill Sono sostanzialmente In buona parte Le posizioni Della Chiesa Cattolica Del mondo cattolico italiano La riprovazione La riprovazione Nei confronti Beh sì Da quando Da quando Cioè La riprovazione Le posso dire Da quando no Da quando c'è Francesco Diciamo Sicuramente Poi No Certo Però Questo è una posizione Assai diffusa Nell'ambito Della Chiesa Del mondo cattolico Ma una cosa È libero pensare Professore Una cosa È libero pensare Dei conservatori italiani Una cosa È la voce Del patriarca Che appoggia il regime No Libero pensare Certo Però Certamente Però Anche noi Voglio dire Nel mondo cattolico Esistono posizioni Di ripudio Di ciò Che non è Il matrimonio regolare La santa Sacra famiglia Madre Padre Due figli Eccetera Eccetera Quindi Dobbiamo smettere Anche noi Di sentirci superiori Siamo diversi Noi dobbiamo Insistere Sulla diversità Dobbiamo pensare A un mondo Prima che Contrini Il mondo Eccetera Che possiamo dare A contegni economici Prego Insomma Coinvolgere Il mondo cattolico Italiano Alle dico Che Medved Oggi è vice Presidente Il Consiglio di Sicurezza Russo Formalmente Questa è la carica Sostanzialmente La persona Che autorizza Putin A rimanere A determinare Quindi Non era una cosa pubblica Ma che Draghi c'ha un Twitter personale Per cui dice Odio l'Oriente E dice No no Comunque non era una posizione ufficiale Della Russia Non condolgiamo la Russia In questa cosa Sappiamo Sappiamo il ruolo Che ha avuto In questi anni Perché si è alternato Con Putin Nella guida Della Russia E la giustificazione Per Putin Dopodiché Sarebbe 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 Alterato Ma ho visto Che il suo linguaggio Assomiglia molto Osama Bin Laden Cioè Proprio Una cosa Quindi l'odio Contro l'Occidente Ma noi cosa abbiamo fatto In questi mesi Per meritare Tutto quest'odio La guerra Poi tra l'altro Poi tra l'altro Poi tra l'altro Poi tra l'altro Tra l'altro Voglio dire Sentire parlare Del mondo cattolico italiano Come ho sentito Come ho sentito Dire poco fa E Vuol dire Non avere proprio La percezione Di quel che ha detto Kirill E di quel che ha rappresentato Papa Francesco In questi anni Ma prima di Papa Francesco Ci sono stati Dei preti In Italia Che hanno dato Una linea Di grande modernità Penso Don Primo Mazzolari Per restare Sulla mia terra Quindi Lei non so Aspettate Ufficiale Alan Friedman Aspettate Guardate Abbassiamo tutti Quelli che intervengono Senza Senza autorizzazione Visto che siamo In una democrazia Alan Friedman Cartello 20 Come vediamo Dalla mappa C'è un sostanziale Stallo Nel sud-est del paese Ma sono ripresi Bombardamenti Segnalate Le fiamme rosse Su obiettivi Nella mappa Su obiettivi Sulle città di Kiev Mikolaiv E Odessa Allora Avremo a breve Un analista Che ci spiegherà tutto Ma gli analisti Dicono In questo momento Siamo arrivati A una sorta di stallo Che si chiama La guerra di logoramento La guerra d'attrito Per cui Chi ha più uomini Sta messo meglio Perché È una guerra In cui tutti Si consumano Tutti soffrono Quindi Quelli che sono più forti Quindi i russi Stanno messi meglio Cosa sta succedendo In quella parte del mondo E come sta influenzando La vita nostra Perché noi ora Arriveremo a capire Che più dura questa guerra Più soffriamo tutti Prego Ma quello che sta succedendo È che la resistenza Ucraina È in attesa E per quello che sento Da Washington È una questione Di giorni Per l'arrivo Di armi Che avranno Una superiorità Tecnologica Permettendo Agli ucraini Di cercare Di rispingere I russi E qui Vorrei solo citare Il presidente Della Repubblica Sergio Mattarella Che l'altro giorno Ha parlato A favore Di rispingere Russi E conservare L'integrità Territoriale Del paese Invaso Quello che sta Poi succedendo Sull'economia E sulla nostra vita Sono due cose In termini Di geoeconomia Abbiamo un'emergenza Energetica Ma io sono fiducioso Che fra qui E le elezioni Del 2023 Il governo Draghi E Cingolani Saranno in grado Di mettere Giù Le palestre Per liberare L'Italia Del gas Russo Entro la fine Del 2023 Quindi questo È un fatto positivo Negativo Abbiamo la Russia Che sta ricattando Il mondo Facendo morire Potenzialmente Milioni di africani Con la guerra Del grano In cui Bloccando Il mare nero E bombardendo A Mariupol Questo ultimo Stoccaggio Di grano Putin Sta usando La fame Come un'arme Prima Volevano Mandare Milioni Di rifugi Profughi In Europa Adesso Usa La fame Queste sono Le cose Che succedono In Italia Succede Che Putin Ha ammazzato La ripresa E invece Di 4,5% Quest'anno L'Italia Avrà fortuna A crescere Oltre il 2% A causa Della guerra Inflazione Attenzione Fazzolo Cartello 44 La guerra Del grano Kiev lancia L'allarme Se non ripartono L'esportazione Ai porti ucraini Bloccati alla guerra Entro l'autunno 75 milioni di tonnellate Di grano Rimarranno Nei silos Ora vedremo Che questo è un tema Doloroso Della guerra Ma potrebbe anche Essere la chiave Della soluzione Perché in fondo La necessità Porta sempre A cercare Composizioni Fazzolo Voleva intervenire Prego Sì Volevo dire Innanzitutto Che il blocco Del grano È dovuto Agli ucraini Che ha nominato I mari Davanti ai porti Soprattutto quello di Odessa Ci sono 420 mine Lì davanti Che possono essere tolte Non è questo il problema Ma quello su cui vorrei far riflettere Un altro aspetto Molto più importante Se le avessero messe gli ucraini Se le togli Arrivano i russi Certo Quindi va trovata Una soluzione politica La colpa di uno Che non gli rubano a casa È lui che ha chiuso la porta No no Assolutamente Va trovata una soluzione politica Per sbloccare questo porto Però la questione più importante Per noi italiani È l'anno prossimo Se verrà liberato Odessa Quindi se finirà All'interno dei confini Della Novorossia Il grano Per venire in Italia Partirà da quel porto Bisognerà trattare Con la Novorossia E non con l'Ucraina Allora Tabacci Quando si dice Lei Il Copa Si era sentito Travaglio Dice Ci sono stati dei contatti Con elementi Dell'esecutivo Con funzionari dell'esecutivo Ma sul serio Per sapere che Fazzolo Pensa che la Russia Abbia ragione C'è bisogno di Di fare un'indagine Ma no Infatti io Ho conosciuto Il dottor Fazzolo Proprio in una di queste serate Di martedì E devo dire che Mi è parso sempre Una persona Che diceva delle cose Con sollevità Che io non condividevo Per nulla Perché fin dalla prima sera Ho capito Che lei Dava copertura Alle iniziative russe Ma detto questo È legittima Questa posizione E mi sono sempre Trovato bene Dopodiché Dove si vuole andare A parare Dire che questa Che lui non deve parlare No io sono contento Che lui parli E poi basta chiederglielo Sei un po' Dalla parte di Putin Glielo dice Insomma Ecco se Mi spariamo Un'audizione Del COPASI No ammette Non c'è bisogno Di andare al COPASI Grimaldi voleva intervenire Brevemente Prego Grazie Floris No io credo Che veramente Bisogna andare un po' Sul preciso Tutte queste quantità Di grano Che stanno Nei silos Ucraini E non in quelli russi E a Odessa Minata dagli stessi ucraini Per paura dei russi Che però È ipotetico Che arrivino Intanto ci sono le mide Che impediscono L'uscita del grano Ma questo grano È di progettato Meno ipotetici Missili che sono arrivati Su Odessa Sarà Ma intanto Quel grano Non è Di nessuno Di quelli Di cui parliamo È della Cargill È della Dreyfus È delle grandi Quattro Grosse compagnie Tre americane E una belgo francese Ma se no Chi lo raccoglieva Quello il controllo E trattenendolo E facendolo Facendo le difficoltà A farlo arrivare Significa Incoraggiare Una Spaventosa Carestia Negli stati Del sud del mondo In Africa In particolare Forse Africa Che è anche da punire Per il fatto Che di fronte Alle sanzioni Nei confronti La Russia Si è astenuta In gran parte E di conseguenza Non ha contribuito All'isolamento Della Russia Anzi A rafforzarla Forse è una punizione Nei controlli Degli africani Cambiamo mondo Dottoressa Donati Cartello 41 L'inflazione In Italia È il massimo Dall'86 Solo di energia Una famiglia media Paga 840 euro In più In un anno 430 euro In più Per il cibo Ci dica Questo cosa significa Dal suo punto di vista I costruttori Poi sentiamo Il dottor Scordamaglia E sentiamo Naturalmente La dottoressa Milani Prego Luciani Mi scusi Come pagano più Le famiglie Pagano anche più Le aziende Oggi L'istat Ha pubblicato Le sue previsioni Per il PIL Di quest'anno L'aspettativa È un più 2,8% Come diceva giustamente Lei prima Erano due punti in più Prima della guerra Ma Questo 2,8% Si realizzerà Solo se La guerra In Ucraina Non si prota È troppo a lungo Solo se I prezzi Dell'energia Non continuino A salire Non continueranno A salire Al momento Non sembra Fermarsi Questa pressione Inflazionaria Che in Italia Ricordiamolo È legata All'energia E all'alimentare Quindi Con lo spettro Anche dell'aumento Dei tassi di interesse Perché I mercati Hanno chiaramente Segnalato Che da luglio in poi Ci saranno 5 aumenti Di 0,25% Dei tassi Di interesse europei Ci sarà Una morsa Sia sulle imprese Che sono indebitate E che dovranno Iniziare a pagare Molto di più Per le posizioni Che hanno in essere Sia sulle famiglie Che per esempio Non riusciranno più A pagare i mutui Un altro dato Che vi segnalo È che Quelli variabili Diciamo Oppure quelli che accenderanno O quelli nuovi Perché nel primo trimestre Del 2022 C'è stato un più 12% Delle compravendite Immobiliari Sull'anno precedente E questo ha fatto parte Anche di quella spinta Che ha portato L'economia Comunque a continuare A crescere Se questo dato Dovesse azzerarsi Nel prossimo trimestre E in quello successivo Le previsioni di 2,8% Per il Pil Non saranno più Milena Luciani E Luigi Scordamaglia Iniziamo da Luigi Scordamaglia E così ci colleghiamo Al grano E poi parleremo del pesce Prego Io sono francamente sorpreso Ogni volta di quanto poco Nei dibattiti Nelle attenzioni Si dia al tema Della sofferenza vera Delle aziende Delle famiglie in Italia Grandissima importanza I dibattiti culturali E religiosi E filosofici Ma qua ci sono Milioni di italiani Che hanno Una benzina Che è ritornata Sopra i 2 euro Nonostante i 30 centesimi Beni alimentari Che sono aumentati Del 15% E dal nostro punto di vista È solo l'inizio Perché il peggio Arriverà Tra agosto E settembre Abbiamo delle aziende 2,9% Di crollo Della produzione industriale Nel primo trimestre Che si fermano Quindi Va benissimo Discutere Di chi è la colpa O di quale sia La filosofia giusta Ma dobbiamo Trovare soluzioni Alla più grave Crisi economici E sociali Che sta arrivando E aggiungo una cosa Soltanto una cosa Noi non possiamo Accettare Che chiunque Ci dica Che non si fa Extra deficit In una situazione Drammatica Noi non possiamo Accettare Che qualcuno Ci dica Che a ottobre Forse valuteranno La procedura Di infrazione Per il 2023 Per chi ha fatto Extra deficit Noi abbiamo Coerentemente Ma noi abbiamo Ci vuole un ombrello Europeo Perché noi abbiamo Affrontato Delle sanzioni Sapendo che ci penalizzavano Maggiormente Hanno fatto Un regalo Da 800 milioni Di euro Ad Orban Impresentabile Hanno avvantaggiato Il petrolio Sugli oleodotti E non quello Su navi Noi coerentemente Italiani Vogliamo applicare La lettera Le sanzioni Ma dateci L'ombrello Europeo Milena Luciani Ora arriviamo Alla lettura Prima Le categorie Allora lei è un'imprenditrice Della pesca Cosa succede a voi? Allora io penso Che posso ben rappresentare In questo momento L'impresa italiana Che non ha futuro Non riesce più A vedere un futuro E faccio seguito A tutto quello Che è stato appena detto Per darvi le cifre Per capire Come la pesca Verti In una situazione Drammatica Siamo piombati In una situazione Drammatica Allora il gasolio Che è la principale Voce di costo Per un peschereccio Come quello Quello della mia famiglia Negli ultimi 12 mesi Ha subito un incremento Del 140% Noi stiamo supportando Un'inflazione A tre cifre E questa cosa Accade solo per i pescherecci Perché per fare un pieno Con l'auto Indipendentemente Se non contiamo I 30 centesimi Di sconto fiscale Negli ultimi 12 mesi Io spenderei Il 47% in più Questa cosa Non accade Con i pescherecci Non capisco il perché Non lo so Noi allora A giugno del 2000 A giugno del 2021 Noi acquistavamo Il gasolio A 50 centesimi Al litro Il gasolio agricolo Agevolato Oggi lo stiamo pagando 1 euro e 20 In Francia I nostri colleghi partner Lo stanno pagando 70 centesimi Quanto può durare così? Noi così non possiamo durare La sua impresa è 40 Noi stiamo lavorando In perdita già da mesi Il settore è fermo Questa è la terza settimana E noi non abbiamo Nessun margine di manovra Le conviene Non fare uscire il peschereccio Allora Noi adesso siamo fermi Se usciamo Sappiamo che lavoriamo in perdita Perché assolutamente Se io per capire In media Lo scorso anno Spendevo 9.000 10.000 euro di gasolio Per un mese Adesso ne spendo 25.000 Tra una settimana Ne spendo 30.000 Se stiamo fermi Abbiamo comunque Dei costi di gestione Dobbiamo pagare il personale Non abbiamo margini di manovra Perché noi non possiamo Neanche fissare il prezzo Breve scordamaglia Poi il quadro di Friedman E le risposte di Tabaccio e Lorenzio Un'azienda agricola su 10 Chiude Un'azienda su 4 Della trasformazione alimentare Sta tagliando gli ordini Nonostante ci sia Una richiesta globale Di made in Italy Bisogna assolutamente Compensare La situazione Allora Donati vuole aggiungere che? Donati prego No dicevo Questo poi causa Un'ulteriore pressione inflazionaria Perché è chiaro Che aumentano i prezzi Diminisce la produzione Ed è un cane Che si muove Allora Friedman Le cose su cui dubita Ma soprattutto Ci sono due modi Di prendere questa vicenda Dal punto di vista pratico Dell'economia E dal punto di vista Ideologico Di quello che abbiamo visto Friedman Poi Tabacci E Lorenzio Parlo da economista Senza ideologia L'economia Non sta andando Verso il peggiore momento Della storia Quello era 2020 Quando è crollato Da 9% Quest'anno Se le cose vanno male Sarà sotto 2% E più 1% Questo Non è La tragedia Il problema È che nella economia reale È devastante Per le piccole imprese Per le famiglie Per le famiglie Per le famiglie Quando stiamo tutti Nella stessa situazione Diceva giustamente Scordamaglia Diceva giustamente Prego Voleva aggiungere Io posso Allora Volevo aggiungere Che da mesi Noi stiamo supportando Chi riesce Perché non siamo tutti Nella stessa posizione Stiamo supportando Quella liquidità Che abbiamo E quindi stiamo lavorando In perdita da mesi Chi non è già fermo In Francia In Spagna In Portogallo Riescono a lavorare Perché come ripeto Loro stanno pagando Il gasolio 70 centesimi Hanno margini Per lavorare Noi siamo fermi E noi continuiamo a perdere Quote di mercato Alla prossima riunione Del Consiglio Europeo Si affronta Il tema che Draghi E l'Italia Hanno posto Fin dal primo momento E' quello del tetto Al prezzo del gas Da cui dipende Il tetto Al prezzo Dell'elettricità Il costo dell'energia È strettamente collegato E si deve fare In sede europea Perché non sarebbe Sufficiente Farlo in sede nazionale Questa è la prima cosa Ci saranno gli olandesi Dopodiché No 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 Secondo me Si arriverà Si arriverà A un punto di equilibrio Aggiungo poi Che il tema Dell'inflazione Noi l'abbiamo già visto Nel passato Negli anni 80 E credo che Si debba evitare Che si determini Una sorta di rincorsa Tra salari E prezzi Quindi per fare questo È necessario Che le tre grandi figure Istituzionali Trovino un punto di incontro Il governo Le imprese E i sindacati Devono stare in piedi Un tavolo Che ha bisogno di tre gambe Se salta una gamba Quindi Non c'è bisogno Di fare delle cose muscolari Si uscita con la concertazione Dal dramma dell'inflazione Se ne potrebbe riuscire Un meccanismo Che è nella linea Di quello tentato A suo tempo da Ciampi Che si deve fare E che tra l'altro Richiede anche un controllo Se c'è speculazione Nel rialzo dei prezzi Degli attività Come abbiamo già fatto Nell'81 Mi dica come Nella storia Si è usciti dalle guerre In che modo Si è usciti dalle guerre Si è usciti dalle guerre Con i trattati di pace Ma si è usciti dalle guerre Quando le condizioni militari Hanno trovato un vincitore E un vinto Non si esce da questo Non si è mai usciti nella storia Ci deve essere un vincitore E un vinto E poi si va a fare Il rattrattato di pace Il campo di battaglia Stabilisce le posizioni Su cui si va a trattare Un flash del professor Dorsi Su questo è d'accordo Come storico? Non può non essere Ma si Grosso modo si Evidente E la situazione Mi pare che Induca Induca a pensare Che Non si possa Come dire Non considerare Illusoria L'idea Che la Russia Rinunci Al Donbass O alla Crimea Quelli sono acquisiti Togliamoci dalla testa Bisogna vedere Quanto gli costano Però Beatrice Lorenzini Se si deve essere Cinici Fino all'ultimo Bisogna pure dire Che più gli costano Più gli costano Più gli costi Sono a trattare C'è una parte Di economisti russi Che infatti Ritiene Che la Crimea Non sia stato Un buon affare Lorenzini Non lo sarà Neanche questa guerra Per la Russia Un buon affare Questo è sicuro Nel medio termine Noi Non è Essere in una situazione Del genere Non è mai Un buon affare Noi non la vediamo Così La vediamo Come una tragedia Umanitaria Gigantesca Dobbiamo Attrezzarci Senza cedere Psicologicamente A quello che vogliono Gli altri Per affrontare Questi mesi Di difficoltà Dei nostri cittadini E quindi Lavorare Sui salari Lavorare Sul tema Energetico Nando Pagnoncelli Lo studio Arriva il sondaggio Piccola pausa Iniziamo Diamo il benvenuto Nando Pagnoncelli Presidente Ipsos Buonasera Buonasera Carlo Parolisi Già capo Della divisione Controspionaggio Dell'Aise L'Agenzia Informazione Sicurezza Esterna I nostri servizi Stranieri Segreti Esterni Pietro Senaldi Condirettore Libero Buonasera Buonasera Emanuela Bertucci Avvocato Dell'ADUC Laura Del Santo Dottore Commercialista Franco Battaglia Insegna Chimica e Fisica All'Università Di Modena Collabora Con la Verità Sempre con noi Antonio Caprari Che vi ricordo In libreria Con William M&R Da inseparabili A nemici Per Sperling E Cuffer Allora Nando Pagnoncelli Gli italiani Sono preoccupati Per l'allungarsi Del conflitto Sì decisamente Lo vediamo Con il cartello 1 Dove appunto 1 su 3 Dichiere di essere Molto preoccupato Un 48% Abbastanza La somma di 2 Ci porta all'80% 4 italiani su 5 Sono preoccupati Quelli un po' meno Preoccupati Lo vedete Sono il 15% Preoccupazione In forte aumento Rispetto alle conseguenze Economiche Dal 46 Al 55% In un mese Diminuisce invece La preoccupazione Per l'estensione Del conflitto E aumenta anche Invece La preoccupazione Per il possibile Arrivo Di profughi Quanto pensano Che durerà ancora? Ma Diciamo Siamo in una fase Di stallo Lo vediamo Con il cartello 2 Il 42% Pensa che durerà Ancora diversi mesi Un italiano su 4 Pensa addirittura Che potrà durare Un anno O più di un anno Mentre quelli Che ritengono Che si possa chiudere Rapidamente Nel giro di poche settimane Sono soltanto All'8% Però attenzione Perché un italiano Su 4 25% Non è in grado Di rispondere Carlo Parurisi Allora Ci vorranno mesi Anni Settimane Si comincia A avere La sensazione Di essere sempre Allo stesso Punto Questa guerra A che punto è? Quello che emerge Sembra Essersi un po' Arenata In una guerra Di vecchio tipo Per certi aspetti È una guerra Modernissima Come abbiamo visto Come abbiamo visto Anche con gli attacchi Hacker E comunque Con quello che succede In rete E per altri aspetti È una guerra tradizionale Sembrano ormai Essersi assestati Quasi in una guerra Di trincea Anche se ci sono Continui rivolgimenti La chiamano Guerra di attrito Vero? Sì È un termine tecnico Che usano Gli aspetti Di geopolitica E di strategie militari Perché? Cosa rappresenta? Diciamo Il continuo Deterrorarsi Delle posizioni Consumarsi reciprocamente Delle rispettive forze In questa fase Ovviamente L'esercito russo Che è molto più potente Anche numericamente Ha la possibilità Di rimpiazzare I propri caduti Cosa che gli ucraini Non possono fare Perché Man mano che hanno Delle perdite E in termini di morti Di feriti E di prigionieri Non riescono più A rimpiazzarli Che idea Si è fatto Professor Battaglia? Io sarei Uno dei putiniani Lei è il putiniano Parlavate Di queste cose Ma io mi sono convinto Che Sicuramente Putin Ha i suoi torti Che il torto Che dire una dozzina Di errori E di cose Che confermano Che l'Ucraina Non è un paese Democratico Come ci vogliono Far credere Ma anche se non è democratico Non autorizza Il paese confinante Certamente No no Sì Soltanto Siccome noi stiamo Mandando delle armi A sostenere Peraltro Una guerra Che secondo me Doveva finire subito Con la resa Di Zelensky Perché ha tanti Torti Il signor Zelensky E l'Ucraina E la classe dirigente Dell'Ucraina Non è che se una torto S'arrende Perché se il popolo Gli chiede di combattere Lui combatte Sì Ma noi stiamo Mandando delle armi Presumendo Che Zelensky Dalla parte Della ragione No Altrimenti Non gli manderemo Armi a lui Manderemo Casomai le armi A Putin No Ora L'Ucraina Ha dei gravi Torti Ne potrei citare Una dozzina Me ne faccia citare Uno solo Nella Costituzione Dell'Ucraina Del 1996 Peraltro L'Ucraina Un paese Giovanissimo All'articolo 10 Recita Che la lingua Di stato Dell'Ucraina È La lingua Ucraina No Questa Quest'articolo È una mina vagante Che messa nelle mani Delle persone sbagliate Può provocare Quello che di fatto Ha provocato E cioè La guerra civile Ho capito Però ci sono L'Ungheria C'è la Turchia Tutti i paesi Che assolutamente Democratici Non sono E non è che noi Li attacchiamo Ma stiamo parlando Di una guerra Che nasce Aspetti Mi aiuta forse Antonio Caprarica C'è confondere Una guerra Con le colpe Di una classe politica In qualche modo Caprarica Colpe che si Incidono Su un paese E la rincidono È molto difficile Seguire Questo filo Di ragionamento Ce la metto Tutta onestamente Ma non riesco E mi chiedo Quale genere Di idea Abbia Il tuo interlocutore Del diritto Internazionale Dei confini Della architettura Di pace europea Cioè Sono tutte cose Che sono coinvolte In questo conflitto E il tema Che stiamo Esaminando Non è Se l'Ucraina Sia democratica Se rispecchi In pieno Gli attributi Della liberal democrazia Ne credo Che noi L'Europa E l'Occidente In generale Stiano aiutando Gli ucraini A resistere Semplicemente Perché sono Una democrazia O perché speriamo Che lo diventino Stiamo cercando Diciamo I governi Che lo fanno E i paesi Che lo fanno Stanno cercando Di mantenere Fermo Quel punto Cruciale Delle relazioni Internazionali Che è il rispetto Della sovranità E della integrità Degli stati altrui Ma vedo Che è inutile Portare questi argomenti Con una persona Che dice Che la risposta Di Zelensky Avrebbe dovuto Essere la resa E sai Naturalmente Io rispetto Le opinioni Di chiunque Mi limito A osservare Che queste opinioni Contradicono Totalmente I 70 anni Di pace Che abbiamo avuto In Europa Le regole Del diritto internazionale Il rispetto Dei confini Della sovranità Dei popoli Più che altro Emanuele Bertucci Ci aiuti Al punto di vista Giuridico Il governo Emanuele 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 Va rispettata Anche l'opinione Di Zelensky E degli ucraini Che vogliono La libertà Del proprio paese Poi torniamo a lei Assolutamente Diciamo che Il ragionamento Che faceva il professor Battaglia Era dati Tanti torti Dell'Ucraina Sui quali Io non sono d'accordo Ma prendo Il suo pensiero Allora Zelensky Avrebbe dovuto Arrendersi Al giorno 2 Non so se Sinteticamente Ben interpretato Professore Ma il punto È molto semplice Che cos'è che chiedeva Putin Prima di invadere L'Ucraina Putin brondola Da tanto tempo Per un problema Molto semplice Però mi permette I problemi sono Uno era Era la Inclusione Dell'Ucraina Nella Nato Ma questo Da diritto Professore Di invadere Un paese Che la Nato Valga una sola Vita umana Ho capito Ma non lo può decidere Né lei né Putin Lo decideranno Zelensky e gli ucraini Ma questo Questo sicuramente Ma non lo stanno Decidendo Zelensky e gli ucraini Perché noi Europei Stiamo facendo Il grosso errore Di stare a mandare Armi A una delle due parti Contendenti Peraltro Un'azione Molto stupida Perché ci siamo Tolti La prerogativa La possibilità Di fare Da faceri Aspetti professore Noi non possiamo fare Da faceri Ci sono tante ragioni Che mi sembra Il generale O sbaglio No Dottor Parolisi No 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 Il discorso Sui torti Dell'Ucraina Qualsiasi stato A torti Nei confronti Di altri paesi Di confinanti Nella storia del mondo Ne troverete sempre Nessun torto Consente Ad uno stato Di invaderne un altro Che è quello Che è accaduto Quindi se il discorso è Zelensky avrebbe dovuto Arrendersi Stante i suoi torti Assolutamente Non regge Se invece le dice Noi non avremmo dovuto Mandare armi Perché in questo modo Ci siamo schierati Dalla parte Dell'Ucraina Ci siamo schierati Dalla parte Di un paese Che veniva In giustamente invaso Che veniva Per il quale Il conflitto internazionale Anche in punto di politico In punto di geografia È stato risolto Con il ricorso alla forza E la resa di Zelensky Al giorno 2 Non significava necessariamente Che al giorno 3 Putin si sarebbe Guardato in giro Allora aspettate Perché Paglioncelli Ora arriviamo A Cassonaldi Diverso è il discorso Della convenienza O della praticabilità politica Di una posizione Che dice il professor Battaglia Adesso ci ha sottratto La possibilità Di essere dei mediatori Secondo gli italiani Quali sono gli interessi Dell'Italia E dell'Unione Europea Paglioncelli? Ma qui vediamo Che le opinioni Sono molto divise Guardiamo la grafica 3 Il cartello 3 Vediamo il 37% Ritiene che Il nostro interesse Interesse con quanto Italiano ed europei Per essere quello Che la guerra finisca Con l'indebolimento Della Russia Perché? Perché in qualche modo Si scongiura il rischio Che in futuro La Russia possa invadere Altri paesi Il 35% Invece Qui vorrei però Ampiare la risposta Perché la sintesi Ovviamente non rende merito Ritiene che La guerra Dovrebbe finire Al più presto Ma anche Con la possibilità Che l'Ucraina Possa perdere I territori occupati Della Russia Quindi la Crimea E il Donbass Quindi vedete I temi si dividono Su questo E ancora una volta Abbiamo una quantità Non piccola Al 28% Che non è in grado Di esprimersi Pietro Senaldi Il discorso Della convenienza Porta dal piano Politico Morale Porta a quello Molto alto E' molto alto Era anche abbastanza Prevedibile Anistan Andavano ridisegnati Degli equilibri Che francamente Noi siamo in una situazione Difficile economicamente Su quanto stanno dicendo Militari Quindi su questa capacità Di valutazione Poi ovviamente In questo momento È la questione Della convenienza Che sollevava Senaldi Ma io credo Che su questo Dovremmo Dobbiamo essere Molto chiari Aiutare gli ucraini E' un modo Di aiutare noi stessi Dobbiamo tenere Chiaro In mente Qual è L'obiettivo Strategico Di Putin L'obiettivo Strategico Di Putin E' di rovesciare I rapporti Di forza Di rovesciare L'architettura Dei rapporti Tra stati Che ci sono oggi Quindi il suo obiettivo E' anche quello Di revocare In dubbio Il nostro modello Di vita Di revocare In dubbio La capacità Di produrre Ricchezza Che noi abbiamo E ci ricatta Con il gas Il petrolio E l'energia Per costringerci Ad assecondare I suoi disegni Aiutare gli ucraini Oggi Significa di fatto Impedire Che i disegni Di Putin Possano spostarsi Più avanti Impedire Che possa realizzarsi Quello che lui Ha detto con chiarezza Cioè rovesciare Quest'ordine mondiale E' un ordine mondiale Che la Russia Rifiuta Ma di quest'ordine mondiale Noi facciamo parte E ce lo siamo Guadagnati Direi anche Con la fatica E il sangue Dei nostri padri E con la fatica Delle generazioni Che si sono succedute Dal 45 Allora Aspetta Pietro Sinaldi Perché vi apro La pagina economica La immagino Tutti potremo tirare Le conclusioni Delle premesse Politiche E delle conseguenze Pratiche Pagnoncelli Come vedono gli italiani La situazione economica Noi avevamo Noi avevamo visto Una crescita Pubblici 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 E privati Se li troveranno Direttamente in busta paga Attenzione però I controlli Saranno successivi Chi non ne aveva diritto Magari perché supera La soglia prevista Dovrà restituire i soldi Facile anche per pensionati Per settori di assegno sociale O invalidità E il reddito di cittadinanza Il bonus Gli sarà accreditato In automatico Dall'Inps Mentre i lavoratori Domestici e stagionali Cococò Lavoratori del turismo E dello spettacolo Dovranno fare richiesta All'istituto di previdenza Per i disoccupati invece Il percorso si complica Chi è senza lavoro Otterrà i 200 euro Solo se risulta disoccupato Nel mese di giugno Significa che Chi rimane inoccupato Da luglio Mentre il mese prima Lavorava Perderà il bonus Cammino in salita Anche per le partite IVA Al momento Si sa soltanto Che sarà istituito Un fondo di 500 milioni Ma basterà per tutti O saranno rimodulati L'importo del bonus E il requisito del reddito Vale a dire Un po' meno Ma nessuno escluso O a parità di requisiti Vincerà il fattore tempo Chi farà prima la domanda Se aggiudicherà i soldi E gli altri rimarranno a secco Le risposte a metà giugno Con il provvedimento attuativo Allora Dottoressa del Santo Non è facile In questo contesto Quel poco che si fa Eppure difficile da ottenere Molto difficile Sembra quasi un percorso Ad ostacoli Se parliamo di lavoratori Dipendenti Di pensionati Di titolari Di reddito Di cittadinanza Arriva in busta Paga a luglio Una tantum I 200 euro Senza fare niente Salvo poi Vederselo rettificare A fine anno Perché il datore di lavoro Farà i controlli Se non era dovuto Sarà rettificato E dovrà essere restituito Per quanto riguarda I collaboratori domestici I co-co-co-co Dovranno fare domanda All'Inps Quindi Altra modifica Altra differenza Ma la vera corsa Ad ostacoli È proprio per i lavoratori Titolari Di partita IVA In questo caso Innanzitutto Aspettiamo Il decreto attuativo Uscirà il 17 giugno Cioè 30 giorni dopo L'emanazione del decreto Il DL Aiuti È uscito in gazzetta Il 18 di maggio Questo decreto attuativo Potrà stabilire L'indenità L'importo dell'indenità Ancora non la sappiamo Per quanto riguarda loro Il tetto di reddito, quindi per avere i requisiti, per avere l'indennità e la tipologia di domanda. Ma la cosa più importante da notare è che l'articolo 33 del DL aiuti, cioè quello che proprio è previsto per i lavoratori autonomi, titolari e depredita IVA, prevede uno stanziamento massimo di 500 milioni di euro. Per cui ci si domanda, sarà un po' meno ma per tutti oppure il giorno X chi prima arriva meglio alloggia, cioè sarà una specie di click day? Allora, avvocato Bertucci, tra l'altro non è che sia tanto, bene che va, appunto se non subentra quel meccanismo di cui parlava la dottoressa del Santo, sono 200 euro. 200 euro sono il massimo sforzo che il governo ha potuto fare in questo momento per cercare di contrastare il maggior costo della vita, farlo totalmente era impossibile perché si sarebbe trattato di cifre enormi. Io registro un dato che purtroppo continua la politica dei bonus che hanno una componente fortemente assistenzialista, che vengono comunque vissuti, poi ormai sono anni che si stratificano i bonus, come delle largizioni che creano anche una certa percezione di sudditanza secondo me nella popolazione e soprattutto la politica dei bonus non è colpa di questo governo che si è visto crollare addosso il mondo con la guerra e le conseguenze dell'epidemia, però sono l'indice dell'assenza di politiche strutturali, per cui la politica dei bonus è quando non c'è una pianificazione del futuro, la toppa, vedi i contributi Covid per esempio. Ad esempio, Senaldi voleva intervenire, prego Senaldi per una domanda per Caprarica. Due cose brevissime. Io speravo veramente che con la fine del governo Conte avremmo finito i bonus. Vuoi aiutarmi? Tagliami le bollette, leva le tasse sulle bollette, tagliami le tasse. A Caprarica, volevo ricordare una cosa, è inutile tirar fuori lo sbarco in Normandia, queste cose qui sono come le merende di Nanni Moretti, non torneranno più, il mondo è cambiato, non torneranno più. Non è che se noi vinciamo in Ucraina tornerà come era prima, ormai è saltato il tappo, si cercano nuovi equilibri. Era quello che io cercavo di dire, forse l'ho detto maldestramente, ma è inutile dire che gli americani ci hanno liberato in Normandia. Io sono felicissimo di questo, non voglio essere frainteso, ma non torneranno più perché gli americani ci hanno mollato con Obama, non con Biden. Allora, Antonio Caprarica, sai perché è importante comunque la tua opinione? Perché ora noi ci collegheremo, aspetta Senaldi, sì, cerco di spiegare anche perché chiudiamo con Caprarica questo tema, perché ora daremo la linea a Laura Gobetti, sui giornali di domani vedremo che Boris Johnson e l'Inghilterra avranno un ruolo importante, così come ha avuto un ruolo importante le notizie venivano dall'Inghilterra per il giubileo di Elisabetta. Ci dai un flash di come tutto quello che abbiamo visto, la politica, l'economia, vengono vissuti da chi l'Europa l'ha rifiutata qualche tempo fa? In realtà per Boris Johnson, che fortunatamente il suo stesso partito sta per consegnare ai robi vecchi della storia, almeno a giudicare da quello che sta succedendo in queste ore, è chiaro che Boris Johnson ha colto l'occasione a suo avviso per costruire un nuovo profilo della Gran Bretagna lontano dalle pastoie europee. Il giudizio sull'Europa è un giudizio che a questo punto, da chi lo guarda da Londra, non può che essere un giudizio negativo di una struttura politica incerta, divisa, e in realtà se voi fate i conti vedete che da solo l'aiuto che Londra ha dato all'Ucraina in termini di armi e di finanza supera quello che è venuto da tutta l'Unione Europea. Quindi dal punto di vista londinese in realtà questa stagione di conflitto è una stagione per Londra per riaffermare la validità della sua sovranità e la sua capacità di essere ancora una potenza che allestisce l'agenda politica del giorno. In questo quadro il ruolo della regina. Mi rifaccio al titolo del tuo libro, William Henry da inseparabili a nemici. Si era immaginato che potessero essere in qualche modo protagonisti del giubileo per ridare un senso di unità. Questo mi sembra invece che si siano visti poco, ma questo ce lo puoi dire tu. Cosa sta succedendo nella penisola britannica a livello di sfaldamento? E magari partendo proprio dall'immagine dei due eredi? Sai guarda c'è una politica debole, da questo punto di vista è un male comune a tutta l'Europa. Adesso anche Londra che solitamente ha avuto dei quadri politici saldi, c'è una politica debole con un partito conservatore spaccato e un partito laburista che non è capace di presentare una sfida credibile. Da questo punto di vista la monarchia che pure non ha un potere politico, perché vi ha rinunciato quando è nata la forma di monarchia costituzionale che vediamo oggi, però mantiene un fortissimo, straordinario potere d'immagine. È un punto di riferimento per la nazione e soprattutto quando alla testa di questa istituzione c'è una personalità straordinaria come Elisabetta II che abbiamo visto all'opera, ad esempio, nella stagione del Covid. Il problema è che i suoi eredi saranno in grado di fornire al Paese lo stesso livello di rassicurazione. Fai bene a ricordare che William e Harry in realtà sono sempre stati dalla morte di Diana in avanti una specie di atto unico, una specie di duetto inseparabile, la eredità condivisa e indivisibile di Diana. Purtroppo la loro frattura annulla anche una delle armi che poteva avere la monarchia negli anni futuri. Per cui secondo me il sondaggio che è venuto fuori in questi giorni, che dice che per la prima volta il consenso degli inglesi per l'istituzione è sceso fino al 60% e soprattutto sotto il 50% tra i più giovani, può far suonare qualche campanello d'allarme a Buckingham. Allora, grazie Antonio Caprarica, grazie ai nostri ospiti che lasciano lo studio perché proviamo a chiudere in qualche modo rilassandoci e diamo il benvenuto a Francesco Palumbo. Buonasera. Manager specializzato in risorse umane, scrittore però in libreria con La Verità di un filo d'erba, edito da Buckingham. Allora, dopo tante notizie difficili stasera, dottor Palumbo, cerchiamo di parlare di arte, cerchiamo un po' di piacere. Allora, faremo un percorso con lei particolarmente interessante, partendo dalla vita di un pittore tra i più significativi degli ultimi secoli, Vincent Van Gogh. Arriveremo al titolo del suo romanzo e ci spiegherà un po' di cose. Allora, partiamo da Van Gogh. Chi era? Chi era? Van Gogh era, innanzitutto, Van Gogh è, tuttora, grazie alle sue opere che sono ancora oggi presenti, era un uomo, era un uomo molto sensibile, un uomo che ricercava l'autenticità nella sua arte. E poi era ovviamente un artista, un artista che viveva la sua arte come una necessità. Se mi consente faccio un parallelismo con Rainer Maria Rilke. In lettera a un giovane poeta, il poeta chiede a Rilke come valuti le mie poesie e come le giudichi. E Rilke, il filosofo, gli dice Io non ti dico se sono belle o brutte, ti chiedo, senza scriverle, continueresti a vivere? Ecco, in questo modo Van Gogh ha vissuto la sua arte. Era necessità, era impossibile fare a me. Esatto, assolutamente. Lei dice nel trattarlo, nella sua opera, la sua opera non è solo interessante per le generazioni che sono venute dopo di lui, ma pure per noi. Allora, perché? Perché il suo modo di affrontare la vita e quindi di affrontare l'arte ci ha insegnato, ci dà tutt'oggi la continua ricerca di verità e di autenticità. Van Gogh è il pittore, è un cronista, è il cronista della verità dal punto di vista dell'arte. Lui fin dall'epoca dell'Aia, della scuola dell'Aia, quindi della scuola del grigio, che erano le tonalità grigie che prevalevano sui colori, lui lavorava a fianco a fianco con tessitori, con minatori, con contadini. Cercava di raccontare la loro verità. Poi questa verità si trasforma e si avvicina alla natura. Quindi il contadino, il tessitore, il minatore, il lavoratore fondamentalmente diventa la natura. Lui cerca di raffigurare quello che la natura ha da dirci. Oggi la natura ha tantissimo da dirci, quindi è assolutamente attuale. Allora, facciamo un percorso attraverso i dipinti. Abbiamo, vi faccio vedere, la sedia di Gauguin, una sedia rappresentata da Gauguin. Eccola qua. Questa qua. Esatto. E poi abbiamo una sedia rappresentata da Van Gogh. Quali sono le differenze e cosa ci dicono queste due opere? Intanto sono una verso l'altra e non è un caso, perché i due nella Casa Gialla erano soliti raccontarsi la giornata e spesso su quelle sedie si sono anche sviluppate delle feroci litigate, specialmente sull'arte. Perché vivevano insieme. Vivevano insieme, per due mesi hanno convissuto. È stata una convivenza un po' turbolenta, diciamo così. La sedia gialla, la sedia di Vincent, è una sedia che, come potete vedere, è una sedia molto molto semplice, apparentemente scomoda, è una sedia fungibile, se ne sono tantissime altre uguali e addirittura aveva comprato una decina di queste sedie per arredare la Casa Gialla. Quindi lui si poneva al pari di tutti gli altri artisti che sarebbero passati per la Casa Gialla. La sedia di Gauguin è una sedia un po' diversa. È una sedia che trasmette intanto un umore più cupo, più serale. Potete vedere, insomma, i colori, il rosso, il verde, che sono poi i colori complementari, colori attraverso i quali Van Gogh anche disegna e dipinge il famoso caffè di notte. Sono colori che danno quasi un pugno allo stomaco, no? Sono colori molto forti che indicano anche una certa passionalità. La stessa passionalità che ci dice, ce la comunica anche la candela accesa. Non è un caso, soprattutto per un artista olandese, per il quale il simbolismo era molto molto forte, andare a mettere una candela accesa. Cosa indicava? Indicava la passione di Gauguin. Per Van Gogh dipingere era necessità e era la normalità. Quindi anche una sedia, tra virgolette, scomoda. Per Gauguin era una cosa di più, serviva un elemento in più, la passione. Esatto, era una pausa breve per Van Gogh, sedersi un attimo e ricominciare a dipingere. Gauguin è un po' più passionale, un po' più godereccio, se vogliamo. Sicuramente aveva bisogno di sedersi un attimo, di riposarsi. La notte stellata su Rodano, vediamola. Vediamola e ammiriamola. Eccola qua. E ammiriamola perché è una delle opere più significative e più emozionanti, sicuramente, della storia di Van Gogh. E siamo sempre ad Arles. Siamo in una sera d'estate, fine estate in realtà, perché è settembre del 1888 in Provenza. E c'è una coppia che passa a dare sempre la contingenza, la quotidianità, la normalità delle cose. Ma poi dietro di loro c'è la bellezza assurda e meravigliosa di queste stelle sul Rodano. Pensate una cosa, Van Gogh ha dipinto questa opera dal vivo e lo ha fatto mettendosi sul cappello di paglia delle candele accese. Perché? Ovviamente perché l'ha dipinta di notte e quindi aveva necessità di vedere sia la strada sia la spiaggia sul Rodano. E quindi eccomi, io mi immagino questo pittore olandese che esce alle due di notte con il suo cappello di paglia e le candele accese. La casa gialla di qui sopra, eccola qua. Questo è sempre il Rodano, la casa gialla. Quello che rimane della casa gialla oggi non c'è più, ovviamente c'è una targa. Siamo a Place Lamartin, al numero 3. Qui questo è un po' il sogno, il sogno smarrito di Van Gogh. Diciamo il desiderio di creare un atelier degli artisti. Un atelier che al sud, nel Midi, potesse accogliere artisti impressionisti e non solo impressionisti e dare vita ad una cosa anche molto pratica che era quella proprio di dividersi le spese e dividersi anche i ricavi. Quindi anche la praticità di lavorare insieme. Qui è un po' quando, anche nel mio romanzo parlo della verità, della ricerca di un proprio destino. Quando il destino diventa non più un percorso, ma ci si prefigge l'idea come se fosse solo un unico obiettivo e per Van Gogh questo è diventato l'unico obiettivo di vita, si rischia un po' di, magari come è successo a lui, di impazzire, tra virgolette. Perché se poi l'obiettivo non si realizzasse, non si realizza, sicuramente si rischia di soffrire molto. Quindi perché la verità di un filoderma? La verità di un filoderma è perché la natura ci insegna che la verità non esiste, ne esistono molteplici. Il che vuol dire, pensiamo ad un raccolto, un campo coltivato che non produce i suoi frutti per uno o due anni e poi all'improvviso, anche grazie magari a una rizzollatura più efficace, dà dei frutti meravigliosi. Oppure immaginiamoci una pianta che non fiorisce da diverso tempo, da diverse stagioni e poi improvvisamente fa vedere un fiore meraviglioso. Ecco, noi siamo e possiamo ripartire dalla semplicità della natura. Il nostro destino, la nostra verità personale può cambiare. Non è solo quella che ci siamo autodati, ci è stazzata dalla società, dalla famiglia, dalla scuola. La nostra verità è in continuo movimento, come noi, e quindi possiamo anche noi cercare di raggiungerla. La verità di un filo d'erba, grazie a Francesco Palumbo. Ora, dopo poca pubblicità, arriva Laura Gobetti con i giornali di domani. I giornali di domani, Laura Gobetti. Grazie Giovanni. Allora partiamo da Corriere della Sera in Repubblica. Lo facciamo anche con un nostro titolo che sintetizza un po' quello che troviamo su quasi tutti i giornali, quasi tutte le aperture dei giornali. L'odio di Medvedev. Allora, partiamo dal Corriere. Odio e minacce dalla Russia. Questo è il titolo del Corriere della Sera. Repubblica invece titola così. Medvedev contro l'Occidente. Vi odio, voglio farvi sparire. Parole decisamente forti. Naturalmente si è aperto un dibattito su queste parole. Si è aperto in Italia e non solo, anche in Europa. Allora, andiamo intanto a riassumerle con esattezza. Che cosa ha detto Medvedev? Lo facciamo con il cartello 15. Eccole qua. Queste sono le parole di Dimitri Medvedev. Li odio. Sono dei bastardi e degenerati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. Finché sono vivo farò di tutto per farli sparire. Contro l'Occidente. Contro chi vuole male alla Russia. Questo ha detto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo e anche ex presidente della Federazione Russia. Riferendosi appunto a chi è contro la Russia. L'ha fatto via Telegram. Se ne è parlato moltissimo, lo dicevamo. Ci sono state molte reazioni anche di politici italiani. E c'è stata anche la reazione di Matteo Salvini che oggi ha incontrato la stampa estera. Silvia De Santi se l'ha intercettato per noi. Ha parlato anche di altre cose. Ma anche di questo argomento. Lo ascoltiamo. Le parole di odio sono sempre e comunque da condannare. Dopo queste parole ha ancora intenzione di andare a Mosca? No, ma voi siete appassionati con le missioni. Io sto lavorando per la pace anche da casa. Non ho bisogno di salire su un aereo. Quindi io mi auguro che Conte, Letta, Di Maio, Renzi, Calenda stiano parlando con ambasciatori, con ministri, con diplomatici, con economisti, con uomini di sport e di cultura per riavvicinare Ucraina e Russia. Se lo faccio io sono potenziale delinquente. Io spero che lo facciano loro. Allora, questo Matteo Salvini l'avete sentito su quello che ha detto Miedvedev ma anche sul fantomatico viaggio in Russia che poi ovviamente è stato rinviato, come avete sentito anche dalle sue parole. Torniamo sui giornali, torniamo sull'apertura dei giornali. Come vi dicevo sono tanti i giornali che hanno deciso di aprire con le parole di Miedvedev. Tra questi c'è sicuramente anche il manifesto sintetico ma efficace come sempre anche grazie alla fotonotizia, l'odio, poi ovviamente il manifesto va anche sulla crisi in Ucraina. Quindi che cosa dice, che cosa sta accadendo poi dal punto di vista pratico nella guerra tra Russia e Ucraina? Che i russi stanno avanzando soprattutto nel Donbass, Zelensky ordina ai suoi di resistere, intanto ci sono dei negoziati che restano comunque un po' allo stallo e poi ovviamente parla dell'affondo dell'ex presidente nei confronti dell'Occidente e appunto le parole forti di Miedvedev, vogliono la morte della Russia, li odio e farò del tutto per farli sparire, cioè le parole che vi abbiamo fatto vedere poco fa. Sul Libero ancora questa vicenda con questo taglio. Mosca getta la maschera, cioè morte agli occidentali, Miedvedev braccio destro di Putin dialoga così, ovviamente ironico il titolo di Libero, bastardi vi farò sparire. Poi torna invece sulla questione italiana, sulla politica italiana, giallo sulla lista filorussi del Corriere, gli 007 dicono non è nostra e su questa vicenda ci torneremo perché la troviamo poi su altri giornali e quindi approfondiremo con altri giornali che cosa sta accadendo su questo fronte. Chiudiamo invece i titoli d'apertura su Mosca e sulle parole di Miedvedev con il giornale occidentali bastardi e poi il titolo Mosca parla come l'Isis, questo l'accostamento scelto dal giornale, frasi shock dell'ex presidente Miedvedev, li odio. E poi cosa sta succedendo? A Kherson sono state trovate delle camere di tortura mentre si va avanti, lo sapete, è un altro degli argomenti di cui si parla molto, dei negoziati sul grano. A proposito di queste parole però, perché la Russia ce l'ha così tanto con l'Occidente? Quali sono i valori che sono in contrasto con i valori russi, almeno secondo i russi e secondo Miedved? Abbiamo provato a cercare di capirlo andando a guardare che cosa succede nella televisione russa e soprattutto che cosa dicono nei nostri confronti. Per noi l'ha fatto Serena riformato. Guardate. Mario Draghi. Mario Draghi. Non è un finanzista che è completamente in iglie dell'Europa e degli americani e non può fare il gioco né in lato né in lato. No, proprio italiani, tutti durante la While roboti, noi portali degli americani, anche gli italiani02 considerano quando gli�itsi cosa. Non lo fa di scar. Super Mario, Mario Draghi Non è il premiero Da, a cui non è il premiero Il comprende, che in realtà Dimentica l'Italia O come è che ci spavano Berlusconi è così Pro cenni, pro cenni, pro cenni A in fine dice E non si accadono Attenzione del Vieto E non si accadono Allora, non si accadono Allora, 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 allora C'è un'autoritario C'è un'autoritario C'è un'autoritario Berlusconi Allora, torniamo sui giornali Con altre notizie L'apertura del Fatto Quotidiano Invece è sulla questione Dei dossier su giornalisti Ma anche altre figure Che sarebbero filo putiniane Filo russe Il titolo è questo Lo scandalo dei dossier Investe il dis e il governo Ci sarà un vertice Con vari ministri Il 3 giugno Tavolo al dis Con gli esteri Gli interni E anche con la G-com Intanto ci sono le parole Di Gabriele che dice Non esiste nessuna lista Allora, anche su questo Noi abbiamo un cartello Perché ci siamo chiesti L'ha fatto Ipsos Pagnoncelli come al solito Per noi Come gli italiani Stanno vivendo L'informazione Sulla questione russa Ucraina E queste sono le vostre risposte Troppo sbilanciata A favore dell'Ucraina E di Zelensky Per il 42% Degli italiani Intervistati ovviamente Da Ipsos È un'autoritario Oggettiva 27% A favore della Russia 8% Ma c'è un 23% Che invece Non sa giudicare Come viene data L'informazione Su questa vicenda Andiamo sul manifesto E parliamo di altro Parliamo di economia Una questione che ci riguarda Moltissimo Di cui si sta discutendo Molto soprattutto in Europa Si stanno prendendo decisioni Salario minimo Europa la svolta Titola il manifesto Sul giornale Arriva il salario minimo Inutile e dannoso Tutt'altra lettura Invece ne dà domani Perché titola così Per l'Italia Non cambia niente Dopo l'accordo Dell'Unione Europea Sul salario minimo E ancora Con il sole 24 ore Questa vicenda Sul salario minimo europeo Nessun obbligo per l'Italia In sostanza che cosa succede? Che dopo 7 ore di negoziati L'Unione Europea Insieme alla Commissione E al Parlamento Europeo Hanno deciso di fissare Delle linee guida Sul salario minimo Si potranno scegliere Due strade Quella di mettere Per legge Un tetto Al salario minimo Oppure per venire incontro I paesi come l'Italia Dove la contrattazione sindacale È molto forte Quello di allargare Questa contrattazione sindacale E cercare comunque Di portare I salari delle persone A di sopra Da soglia minima Di sopravvivenza Tutto questo Si inserisce In un discorso Di cui Che abbiamo fatto In questi giorni Che riguarda Ovviamente anche L'aumento dei prezzi Non soltanto Per le persone Che consumano Quindi non soltanto Per il costo del denaro Ma anche per chi produce È qui che un po' Si gioca la lotta Allora Cristina Buonvino Ci fa vedere Per esempio Quanto sono aumentate Le bollette Per chi produce Federico ha una piccola gelateria A Roma E sta facendo i conti Con il caro bollette Se l'anno scorso In questo periodo Aveva pagato 613 euro Di elettricità Quest'anno Gli euro sono 1166 Nascure Caduta dal cielo Abbiamo avuto Un aumento Del 100% Questa è una cifra Per il consumo Di aprile Ed è una cifra Che noi siamo abituati Ad avere Nel periodo di agosto Certo qui L'energia elettrica Si utilizza paretto Frigoriferi Macchinari E l'aria condizionata Che deve stare accesa Anche la notte Per preservare Gli ingredienti necessari Per gelato e pasticceria Abbiamo bisogno Che la temperatura Sia controllata Dalla mattina Fino alla sera E anche a casa Non va meglio Noi eravamo abituati A pagare Una bolletta Bimestrale Di 80-90 euro E ci è arrivata La bolletta Dello stesso periodo Intorno ai 360 euro Eppure gli aumenti Al momento Non hanno colpito tutti In giro di un anno E tre mesi Noi abbiamo subito Nel mercato tutelato Aumenti superiori al 100% Chi è nel mercato libero Ed è stato fortunato Perché ha avuto Una tariffa bloccata Magari per un anno In questo momento Non ha visto gli aumenti Perché appunto Il prezzo era bloccato Sono oltre 18 milioni I clienti Del mercato libero Per l'elettricità E 12 milioni Per il gas Si devono aspettare Il raddoppio Se non il triplo Di quello che pagavano Precedentemente E per chiudere la questione Sul salario minimo Ricordiamo che in Italia Ci sono 5 milioni Di lavoratori Che percepiscono Un salario inferiore A 1000 euro al mese Mentre 4,6 Prendono meno di 9 euro L'ora Andiamo invece Sul mattino E parliamo ancora Di economia Notizie che arrivano Dall'Europa Diesel e benzina Stop Dal 2035 Su questo l'Europa Voterà oggi Anche se il voto Si annuncia Molto difficile Perché non tutti i paesi Sono d'accordo Sul libero Sempre questa notizia Auto a benzina al bando Ultimo scontro Nell'Unione Europea Questo è per ridurre Le emissioni Sapete l'obiettivo È quello di ridurre Del 55% Da qui al 2030 E quindi per farlo Si pensa a questa soluzione Ma dicevo Il voto non è affatto scontato Ci saranno moltissimi emendamenti Chiudiamo Con invece una vicenda di cronaca Di cui si è parlato molto In questi giorni Intanto con la verità Che dice così La sinistra ha creato La bomba africani violenti Ne ha fatti entrare troppi E poi li ha abbandonati lì Perché fa quest'analisi La verità A che cosa si riferisce A quanto è avvenuto A peschiera nel Garda Cioè Le ragazze Che sarebbero state molestate Sul treno Che le riportava A casa da Garda Landa per il momento Le inquidenti Stanno ancora lavorando Si parla almeno Di 10 vittime di molestia E l'ipotesi Su cui stanno lavorando In cui i denti Sarebbe appunto L'odio razziale Grazie Laura Allora Martedì scorso Gratteri ha detto da noi Che sono stati stanziati Più di 28 milioni di euro Per costruire le case Dell'amore Nelle carceri Il mistero della giustizia Dice Quella cifra è solo una stima E non ci sono fondi stanziati In ogni caso A queste strutture Non potrebbero accedere I detenuti In regime di 41 bis La campagna Vi ricordo L'iniziativa Un aiuto subito All'Ucraina Noi ci vediamo Martedì Allee Grazie a tutti Grazie a tutti